Buongiorno a tutti, benvenuti. Direi di iniziare con questa mattinata di lavori con un ringraziamento da parte mia, innanzitutto a Consumer Forum, agli organizzatori, a tutti voi molto numerosi per questo appuntamento. Io ho l'ingrato compito di moderare, il che significa sostanzialmente avere orologio alla mano spesso e cercare di bacchettare i relatori. Il programma di questa mattinata è molto intenso, quindi dopo i saluti, le presentazioni, le prime relazioni, cominceremo una tavola rotonda che per esperienza già passata sarà molto interessante, molto ricca, quindi con tempi ovviamente contingentati. Parliamo di conciliazione, non serve, probabilmente non servono le parole, il pubblico è un pubblico che ne sa sicuramente più di me. Uno dei pochi settori, io direi, in cui l'Italia ha una supremazia, ha una tripla A, come si direbbe in linguaggio finanziario, e però qualche nube all'orizzonte c'è, soprattutto all'orizzonte europea. Quindi, bando alle ciance, cominciamo con i lavori, cominciamo con Fabio Picciolini, Presidente del Consumer Forum, a cui si deve questa giornata, l'ennesima di dibattito sulla conciliazione. Vi ringrazio davvero tutti di essere intervenuti. Grazie, buongiorno. Per fortuna il mio compito non è in grado perché non dovrò contingentare i tempi. Anzi, cercherò di recuperare qualche minuto rispetto al classico quarto d'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora di ritardo. Anche i miei vogliono essere ringraziamenti e vogliono essere ringraziamenti non formali, e lo vedrete nell'ultima parte del mio intervento. Permettete però di iniziare a ringraziare coloro che hanno lavorato per questo quinto rapporto, che senza nulla togliere i precedenti, credo che abbia un qualcosa in più e qualcosa di innovativo. Quindi permettete di ringraziare sia chi è qui sul palco, da Antonietta Boselli a Pietro Prateri, alla dottoressa Diella, ma permettete di ringraziare anche tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte, facendo il lavoro che si usa dire sporco, che assolutamente sporco non è, anzi è il più importante, secondo me, che è quello di costruire questo rapporto. E ovviamente, come sempre, non posso farne a meno permettere di ringraziare tutti i collaboratori di Consumer Forum che fino a ieri sera, ora tarda, diciamo così, hanno addirittura incollato pacchi, come si usa dire, e via dicendo. Quindi grazie veramente a tutti, il merito è veramente di tutti. Ma come presentazione, per me quest'anno è veramente molto, molto semplice. È il quinto rapporto, è un rapporto storico, è uno dei punti su cui Consumer Forum è nata dal 1999, quindi la conciliazione, il rapporto conciliazione è un aspetto fondamentale. Dicevo adesso Riccardo che in questo siamo avanti. Io ricordo, ricordo, ero appena entrato nella situazione dei consumatori che alcune grandi imprese, ricordo Telecom, ricordo che non si chiama ancora Telecom, se ricordo bene, ricordo Post, già avevano attuato la conciliazione paritetica, avevano iniziato ad attuare la conciliazione paritetica in Italia. E credo che sia una di quelle iniziative che, così come abbiamo cercato di portare avanti in questo periodo di questa Presidenza, come hanno fatto tutte le precedenti, dovrà essere ancora uno degli elementi importanti per l'attività di Consumer Forum. Uno degli elementi importanti è anche per un altro motivo, perché a prescindere dalle nubi che esistono e ci sono, nessuno lo può mettere in dubbio, la conciliazione paritetica in Italia sta andando bene. Sta andando bene come numeri, vedrete, li dirà Antonietta fra poco, ma soprattutto, e questo credo che sia l'aspetto che dobbiamo cogliere tutti insieme, perché poi i numeri vengono dopo, aumenta come soggetti che fanno la conciliazione paritetica, sia a livello centrale, sia a livello paritetico, sia a livello regionale, locale e via dicendo. E questo è un aspetto, e anche come settori. Quindi credo che dopo i numeri arriveranno, io ne sono convinto, se noi riusciamo a far, voi, associazioni e imprese, riuscite a fare, noi siamo solamente un tramite come Consumer Forum, se voi riuscite a fare sempre più protocolli, accordi di conciliazione paritetica, secondo me è un fatto estremamente importante e che ci darà forza anche a livello nazionale ed europeo. Due cose ancora molto rapide per arrivare al punto, a mio avviso, più importante. Quest'anno abbiamo proseguito nell'esame anche della mediazione civile, voi sapete che è ridiventata obbligatoria, meno settori di prima e via dicendo, ma sapete che è ridiventata obbligatoria per alcuni settori e quindi abbiamo le tavole, i numeri che ci dice il Ministero di Giustizia, con cui anche a lui va un ringraziamento. E da ultimo, grazie a Union Camere, abbiamo inserito, l'anno scorso mediazione, quest'anno abbiamo inserito una prima fase sulle inibitorie che speriamo, in prospettiva, di rendere sempre più importante. Le inibitorie, sapete che sono un punto fondamentale, senza il quale tante cose non si potrebbero aggiustare. Per cui è importante, su questo aspetto, è importante che si affianchino a tutte le altre iniziative, anche perché sono iniziative, ovviamente i migliori vanno anche in tribunale, oltre che a GCM, ma sono quelle cose che danno aiuto anche al Paese, perché consentono di ridurre, o quantomeno non far aumentare, il carico di oltre, se ricordo bene, 6-7 milioni di pendenze che sono presse i tribunali. E l'ultimo punto, che credo che quest'anno non può che essere il più importante, e a quello che so sarà anche un po' il left motive della tavola rotonda, è stata approvata la Direttiva Europea sugli ADR e gli ODR. È buona? Sì, ma non ci fa un piacere fino in fondo. Non è proprio quello che noi, come soggetti primari di questa materia, ci aspettavamo, ci aspettavamo come Italia, come imprese e associazioni di consumatori italiane. Diciamo che i primi passi per un miglioramento ci sono stati, un emendamento approvato già da uno dei due remi del Parlamento è positivo, migliora ciò che dice la Direttiva Europea, però siamo altrettanto convinti che non è sufficiente. Dobbiamo fare di più, dobbiamo ottenere di più. E qui abbiamo 13 mesi di tempo, fino al 9 luglio del 2015, mi auguro anche meno, chiaramente, per il ricevimento a livello nazionale di questa direttiva. Noi dobbiamo fare in maniera tale, voi dovete fare in maniera tale, che si attagli nel ricevimento, nel decreto legislativo di ricevimento, sempre più alla realtà italiana, che è diversa. Io credo, permettetemi un po' di orgoglio di Consumer Forum, ma di tutti i soci di Consumer Forum, questa è un'eccellenza nazionale. Dobbiamo mantenerla e dobbiamo migliorarla. Ecco, io credo che questo sia un aspetto estremamente importante, ed è per questo che io, per quello che sarà il tempo che mi è dato ancora il prossimo anno, credo che dovremo operare imprese e associazioni per raggiungere questo risultato. Consumer Forum, sapete che già nella Presidenza Veroli ha fatto tanto su questo aspetto, io spero di poter fare almeno quanto hanno fatto le precedenti Presidenze, e ci dichiariamo pronti come Consumer Forum a essere quel punto d'incontro che è sempre stato tra imprese, associazioni di consumatori e Atenei che possono darci quella spinta anche culturale che è necessario quando si affrontano questi temi. Ecco, io mi fermo qui, spero di essere stato nei tempi assegnati, ma veramente, io credo che quest'anno abbiamo, sia come rapporto fatto, sia come iniziative da fare nel prossimo anno, vedremo veramente tante belle cose e avremo tanto da divertirci. Grazie. Grazie. Beh, rivendicare un po' d'orgoglio in questo periodo comincia a diventare usuale per l'Italia in Europa e non è male, diciamo, visto che spesso siamo, come dire, autolesionisti. Non c'è dubbio, non c'è dubbio che siamo di fronte a un'eccellenza italiana, non c'è dubbio che il valore di iniziative come queste, di Consumer Forum, va anche al di là della singola esperienza, perché serve in qualche modo a riunire anche esperienze differenti su quello che è un settore, vi dico dal punto di vista di chi in qualche modo dirige un giornale dei consumatori, un settore essenziale, perché se io vi dovessi far vedere, ma l'associazione dei consumatori ne hanno più di me, ma se vi dovessi far vedere la mole di cartelline, di lettere, di mail, ormai di mail, lettere molto meno, su quelli che sono in qualche modo le richieste, gli SOS dei consumatori su come risolvere un problema, questa è una via ovviamente preferenziale che fa bene all'impresa, al consumatore e al Paese, non c'è dubbio, come diceva Fabio Picciolini. Adesso la relazione di introduzione è di Pietro Praderi, Presidente della Lega Consumatori, a cui do subito la parola, ringraziando Fabio anche per lo short time, quindi la sintesi. Io ringrazio dall'invito e ringrazio anche della pubblicazione, della relazione che mi consente di lasciare da parte tutto quanto si riferisce alla memoria della esperienza della conciliazione paritetica a cui io tengo molto, ma che evidentemente non è il tema prioritario da affrontare oggi. Tengo molto per una ragione, l'ho scritta pensando agli amici, colleghi che soprattutto si sono impegnati nella fase iniziale, i primi dieci anni, su entrambe i fronti le associazioni di consumatori e le imprese che poi era un'impresa, SIP Telecom, e anche con memoria alle persone perché a mio giudizio anche gli aspetti umani sono importanti e per non fare omissioni ne ricordo solo uno, Vincenzo Adona, che era quello che ha coordinato l'avvio unitario, 12 associazioni, di questa esperienza. io mi prenderò il tempo che è giusto prendere su un punto ovviamente a valle di tutta una lettura di un excursus che ho tentato di fare con la relazione, il punto che riguarda l'attualità, collegato a come dire a un filo rosso e la concentrazione paritetica è nata nel solco europeo. Io sono convinto che deve con il riconoscimento da parte della direttiva 11 2013 deve ritornare nel soccorre europeo. Ecco, questa parte finale che mi spiace infliggervi con la lettura di questa parte vuole essere se possibile un contributo nella direzione di un percorso che porti al riconoscimento dalla conciliazione paritetica come esperienza originale italiana però pienamente europea. Siamo a Consumer Forum, un luogo che ha come scopo sociale il confronto che aspira a divenire dialogo e costruzione di collaborazione sinergica. Un luogo pertanto nel quale trovano ascolto voci diverse con la convinzione che la differenza nel rapporto fra persone e ricchezza e fattore di sviluppo. Sul futuro della conciliazione paritetica a mio avviso esiste una consapevolezza comune sciogliere il nodo del riconoscimento dell'Unione europea ed insieme unitariamente ed è insieme unitariamente che dobbiamo affrontarlo e a questo vorrei portare con questa introduzione un contributo a valle di questo intento unitario si sono delineate due posizioni entrambe legittime e promettenti quella che ritiene la conciliazione paritetica così com'è come è stata realizzata già pronta per essere riconosciuta dalla direttiva 2013-11 dopo che a livello europeo è già stata riconosciuta come buona prassi quella che ravvisa l'esistenza di requisiti importanti seconda posizione di requisiti importanti per essere riconosciuta ma che sia necessario un ulteriore cammino e perfezionamento finale per conseguire il risultato importante e il riconoscimento comunitario di un modello ADR originale ed efficace a mio avviso diventa pertanto decisiva l'intesa di valorizzare le differenti posizioni per colpire uniti pertanto per ottenere il riconoscimento dell'Unione Europea ritengo che entrambi gli schieramenti in campo possano avere un obiettivo comune evitare che la conciliazione paritetica venga classificata come procedura presso sistema di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista cioè dall'azienda e pertanto esclusa dal riconoscimento va rilevato che l'Unione Europea ha precisato questo giudizio nel documento di consultazione e nella direttiva considerando numero 23 e articolo 2 comma 2 lettera B occorre pertanto chiarire che conciliazione paritetica non è una forma di negoziazione diretta tra consumatore e professionista quindi azienda al contrario essa si fonda sul mandato affidato all'associazione da parte dell'utente come soggetto fiduciario in certo modo soggetto terzo tra consumatore e professionista perché in questo modo scioglie il nodo delle asimmetrie e si rapporta con l'azienda da pari a pari il consumatore naturalmente pertanto la conciliazione paritaria esula su questo punto dalle procedure cui non si applica la direttiva di cui alla risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 12 marzo 2013 la conciliazione paritaria è cosa strutturalmente diversa e qualitativamente diversa in secondo luogo la conciliazione paritetica non fa parte delle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami gestiti dal professionista quindi dall'azienda tuttavia occorre essere onesti e riconoscere che qui sta la tentazione di aziende e la debolezza di associazione dei consumatori tale tentazione ha successo quando di fatto si lascia all'impresa un corposo spazio di discrezionalità nel decidere quale in pratica considerare possibili di procedimento di conciliazione e se e quando farne oggetto di trattazione un procedimento di conciliazione questa non è conciliazione paritetica anzi il contrario nella proposta del CNCU che ho evocato nella relazione anche in modo articolato tale progetto il problema è stato posto e risolto in un comparto decisivo rispetto all'evoluzione del welfare quello dei servizi pubblici locali qui lo schema di protocollo di intesa prevede l'accordo quadro con la disposizione generale e un regolamento che pone al centro il comitato di gestione paritetico la procedura divene così a tutti gli effetti un soggetto nel senso indicato dalla direttiva 2013-11 all'articolo 4 punto 1 lettera H un organismo ADR quale qualsiasi organismo a prescindere dalla sua denominazione istituito su base permanente che offre la risoluzione delle controversie attraverso una procedura ADR ed è inserito in un elenco ai sensi dell'articolo 20 paragrafo 2 sempre della direttiva per le associazioni per la conciliazione paritetica il nodo strutturale da sciogliere in riferimento alla direttiva 2013-11 è esplicitamente quello delle procedure e degli organismi nei quali ci sono persone fisiche assunte o retribuite esclusivamente dal professionista quindi dall'azienda in quel caso la direttiva si esprime così la direttiva non si applica a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista cioè dall'azienda nel merito nel merito occorre osservare che tale norma va misurata sulla specificità della conciliazione paritetica nella quale l'assunzione e la retribuzione da parte dell'azienda riguarda esclusivamente il 50% della rappresentanza in quanto la rappresentanza degli utenti delle associazioni da tempo noi la consideriamo come gestione da gestire nel rispetto pieno del principio dell'indipendenza cioè senza che l'azienda metta a disposizione delle risorse da versare direttamente alle imprese e c'è un elemento aggiuntivo tratto dall'esperienza ultraventennale della conciliazione paritetica il verificarsi di una saldatura stretta tra conciliatore di controparte consumerista con l'associazione ed è la controparte aziendale con essa cioè con l'azienda e questo rapporto favorisce la composizione pacifica della controversia perché il confronto si realizza tra posizioni chiare non a caso quando nel 2004 una grande azienda propose all'associazione dei consumatori di sostituire i suoi conciliatori con avvocati liberi professionisti del proprio servizio recupero credito ebbe un secco e motivato no da parte delle associazioni dei consumatori ritengo pertanto che si possa sostenere che nella conciliazione paritetica il fatto che i conciliatori di parte aziendale siano dipendenti o pagati dalle aziende non intacca il principio di indipendenza al contrario tale principio correrebbe il rischio maggiore qualora rappresentare l'azienda fosse un libero professionista magari retribuito in percentuale su risparmi assicurato con la sua attività all'impresa ho ben presente un fatto curioso la prima bozza stampata della raccomandazione 257 1998 non conteneva la parte finale sul punto dell'indipendenza quando l'adozione della decisione è collegiale l'indipendenza dell'organo responsabile dell'adozione della decisione può essere garantita attraverso la rappresentanza paritaria dei consumatori e dei professionisti come aggiunto a seguito della consultazione avviata in quella fase tale comma conserva una portata di attualità che merita un nostro recupero unitario per gestire il rapporto con la direttiva 2013 numero 11 e per riaffermare che la conciliazione paritetica gestita collegialmente è in grado di assicurare il principio di indipendenza come riconosciuto dalla raccomandazione 257 e in altre parole il conciliatore dell'azienda suo dipendente serve a responsabilizzare l'azienda stessa naturalmente nel rapporto paritario ed essa non può trarre alibi citando terzi da essa delegati a operare il criterio della dipendenza e della remunerazione così come si colloca nella conciliazione paritetica non può essere motivo della sua esclusione del riconoscimento CE occorre riconoscere che la Camera dei Deputati sta dimostrando di comprendere alla natura il ruolo e l'importanza delle iniziative riconducibili alla conciliazione paritetica lo prova il fatto che in sede di formazione della delega al governo per il ricepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea è stato approvato discorso è approvato un emendamento che si compone di due punti decisivi esercitare l'ozione di cui l'articolo 2,2 lettera A della direttiva secondo cui rientrano tra le procedure ADR utili ai fini dell'applicazione della vedesima direttiva anche le procedure dinanzi ad organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista già consentita ai sensi del decreto legislativo numero 28 del 2010 prevedere ai fini dell'ozione di cui è la lettera A che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controverse facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e di rappresentanti del professionista cioè dell'azienda e siano nominate a seguito di una procedura trasparente è quello che è stato fatto con l'accordo dalla conferenza unificata pubblicato peraltro sulla gazzetta ufficiale e che riguarda i servizi pubblici locali qualora questo emendamento diventasse legge risulterebbero già riconosciute ANIA poste italiane e quelle riconducibili allo schema di conciliazione per i servizi pubblici locali contenuto nell'accordo del 26 settembre 2013 della conferenza unificata pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 29 ottobre 2013 la data proposta per il recepimento della direttiva è il 9 luglio 2015 a mio giudizio la priorità in chiave di urgenza è quella di convergere unitariamente dentro fra le associazioni dei consumatori ma a mio giudizio associazioni dei consumatori aziende aziende nella descrizione che ha fatto Fabio Picciolini non moderne aperte anche socialmente aperte rispetto anche a una prospettiva di economia civile non semplicemente legata al profitto ecco lavorare unitariamente in questa direzione superato questo ostacolo decisivo si apre uno spazio di ampio respiro per trasferire in un quadro di riferimento alla direttiva tutta una serie di opportunità che sono peraltro indicate espressamente nella direttiva stessa io invito a leggere la direttiva anche in questa ottica di proiezione sul futuro di apertura in particolare fra i vari punti che sarei tentato di presentarvi in particolare ne cito uno che a mio giudizio è presente dall'inizio nell'esperienza della conciliazione paritetica la conciliazione paritetica fa capo a un accordo tra associazione consumatore e imprese che non riguarda solo la gestione della pratica del reclamo della conciliazione della controversia ma riguarda anche tutta l'attività perché no culturale di informazione di educazione del consumatore di verifica delle condizioni del rapporto tra l'azienda e il consumatore così che l'esperienza della conciliazione paritetica serva anche lo dice anche la direttiva ma è tutto quanto abbiamo tentato fin dall'inizio di realizzare in Italia cioè l'esperienza della conciliazione paritetica serve anche per elaborare norme requisiti ad impimenti perché vengono prevenute le cause che provocano i reclami che provocano il contenzioso così che diventi un percorso virtuoso attraverso il quale si realizza nel mercato un rapporto tra impresa e consumatore dove l'impresa aspira a gestire un rapporto con il consumatore informato con il consumatore esigente grazie grazie davvero a Praderi per aver fatto un escursus molto ampio molto ampio che va diciamo dagli anni iniziali di questa esperienza agli scenari agli scenari futuri anche culturali che questa esperienza ha come come parte fondante del valore ieri sentivo a proposito del caso di Venezia che ovviamente apre tutti i giornali sentivo dire che sì quando arriva un magistrato si tratta di repressione non è possibile fare ci sono dei campi della giustizia in cui non è possibile fare prevenzione si arriva solo dopo che il reato è stato compiuto bene questo delle ADR comunque della conciliazione invece è un campo come diceva giustamente Praderi in cui si riesce a fare tutte e due ovviamente non siamo di fronte a un reato né tantomeno a una corruzione ma si riesce in qualche modo a conciliare l'esigenza del consumatore con quella delle associazioni e delle aziende di poter crescere in un rapporto che inizia ovviamente normalmente in questo caso con uno scontro ma che poi evolve secondo me questo è uno dei valori essenziali di questa esperienza ma arriviamo al cuore diciamo del quinto rapporto quindi ai numeri alle evoluzioni che questo che questo rapporto presenta con Antonietta Boselli che è segretario generale di Assolutenti che ci racconta cosa esce fuori quest'anno dal rapporto Buongiorno a tutti ora dalla bellissima illustrazione che ci ha fatto il Presidente Fraderi passerò a dati un po' più tecnici spero altrettanto interessanti mi volevo innanzitutto mi voglio associare ai ringraziamenti fatti al Presidente Picciolini a tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo quinto rapporto devo dire che quest'anno rispetto all'anno precedente ha presentato qualche piccolo problema in più però siamo felici di poterlo presentare i miei ringraziamenti vanno anche alle aziende che hanno collaborato che ci hanno fornito i questionari e così ci hanno permesso di presentare questi dati statistici quindi un grande veramente ringraziamento alle aziende che ci hanno permesso di realizzare questo il quinto rapporto allora scusate credo che ok va bene qua presentiamo le cinque edizioni del rapporto sperando di poterne presentare altrettante la normativa la normativa abbiamo riproposto quella dell'altro anno aggiungendo quest'anno solo il decreto legislativo 69 che tutti sappiamo che cos'è ridefinisce l'obbligatorietà della mediazione e la necessità della presenza degli avvocati nella procedura di mediazione quindi ha superato il discorso della corte costituzionale che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'obbligatorietà detto ciò non parlo del della delibera del Parlamento europeo perché verrà dibattuta ampiamente e ho fatto solo richiamo normativo successivamente mi soffermo un momento sul contesto europeo allora i consumatori in Italia purtroppo come l'altro anno ma non ho avuto un dato più aggiornato sono sempre 500 milioni sembra che questa Europa scusate non cresca però l'altro anno c'era lo stesso dato quindi i 500 milioni che ovviamente l'Europa colloca come una forza ma è giustamente come una forza trainante dell'economia però potrebbero essere potenzialmente 500 milioni di consumatori a questo punto è stato istituito sono stati istituiti già da molto tempo i centri europei dei consumatori che è una rete europea che fornisce informazioni ai consumatori per gli acquisti online o trasfrontalieri e li supporta nella gestione del reclamo o del contenzioso allora rispetto all'anno 2012 c'è stato un incremento dell'11% dei reclami dei contatti con i centri europei che sono stati 8.272 e di questi 8.272 32.522 sono stati trattati come reclami molti dei reclami riguardano il settore dei trasporti ma non di minore importanza quello degli acquisti elettrodomestici dei biglietti per eventi sportivi però anche per tutto quello che riguarda attività turistica quindi e il timeshare che sarebbero poi le vacanze condivise in multiproprietà che probabilmente è il vecchio problema a livello europeo si sta facendo sentire allora in Italia nel 2012 gli italiani online si sono attestati sui 36 milioni e tra essi ben 13 milioni hanno effettuato almeno un acquisto online ciò vuol dire che probabilmente l'attività se almeno è prevista una progressione nella presentazione di reclami e successivi contenziosi a livello europeo con ovviamente l'aumento degli acquisti trasfrontaliere e degli acquisti online allora nel 2012 poi io ve le lascio questa mia presentazione quindi non la troviamo ora non tutta nel 2012 il 32% dei consumatori con accesso a internet ha effettuato prenotazione online per viaggi aerei ed alberghi quindi come l'altro anno preponderante è l'attività su questi settori la rete Eccinet è presente in 30 paesi europei quindi compresi la Norvegia e l'Islanda quindi è una rete che dovrebbe supportare al meglio il consumatore nelle sue attività questo è legato sempre al discorso che verrà fatto nella tavola rotonda perché il regolamento è sull'online dispute resolution quindi vado avanti allora noi l'altro anno avevamo presentato l'agenda europea dei consumatori nelle nostre presentazioni quest'anno in data 26 febbraio 2014 è stato approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il regolamento 254 relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 è un programma molto interessante perché nelle sue nella sua preposizione dà una grande importanza alla tutela dei consumatori ma principalmente alla necessità che il consumatore deve essere un consumatore informato deve crescere sempre di più per essere più informato sui suoi diritti quindi questa direttiva prevede dei grossi dei importanti finanziamenti per le attività di scusate per le attività di tutela del consumatore attraverso corsi di formazione ed informazione che in parte dovranno essere svolti dagli organismi che tutelano i consumatori quindi dalle associazioni allora questo è l'obiettivo del programma l'obiettivo generale che poi si suddivide in tre sub obiettivi quindi vado avanti il modello di conciliazione in Italia non inutile che Pietro Pateri ne ha parlato ampliamente io solo quello che voglio aggiungere a questo discorso è che dal 2004 anno in cui fu sottoscritto con Telecom e le associazioni consumatori la procedura di conciliazione monofasica molte molte protocolli di conciliazione sono stati sottoscritti li trovate nell'elencazione contenuta nel libretto consumer forum ma altrettanto recentemente quindi anche se sono state indicate ma non hanno ancora prodotto effetti sulla pratica di conciliazione perché sono stati sottoscritti o a fine dicembre 2013 o ai primi del 2014 sono stati sottoscritti protocolli di conciliazione con un'altra azienda energetica che è la E.ON sono stati sottoscritti dei protocolli di intesa con aziende che operano nel settore del recupero crediti ed è un settore particolarmente importante in questo momento sta creando delle controversie molto forti fra i cittadini e queste aziende questi accordi porteranno alle sottoscrizioni anche in questo caso di protocolli di conciliazione sappiamo tutti il settore del recupero crediti perché praticamente è sui giornali tutti i giorni le associazioni dei consumatori sono presenti quindi speriamo di arrivare alla sottoscrizione di questi protocolli quanto prima il percorso è in atto quindi credo che succederà abbastanza velocemente è stato sottoscritto un ulteriore protocollo con un'altra azienda energetica che è Energetic Su un gruppo che sotto c'ha la energia e poi più tardi vi parlerò di un settore che ci sta molto a cuore che è quello dei trasporti dell'ultimo protocollo sottoscritto nel maggio 2014 bene l'iter della procedura vi risparmio perché siete tutti esperti di procedura di conciliazione quindi vi risparmio io poi non ci vedo scusate qual è la sua ah eccola ok quindi vado avanti e cominciamo a parlare di numeri allora quest'anno abbiamo modificato l'indagine è stata un pochino modificata perché volevamo dare dei dati più puntuali e più precisi rispetto all'anno precedente l'indagine è stata condotta su un panel di 23 aziende sono elencate nel libretto Consumer Forum nel quale comunque ancora va il mio ringraziamento e abbiamo quest'anno abbiamo realizzato dei questionari tutti i questionari diversi specifici per i singoli settori che andavamo a interpellare quindi sono stati realizzati sei questionari per telecomunicazioni energia servizi idrici eccetera ed uno generico per i comparti assicurativo turismo condominio e pubblici esercizi allora il totale delle domande di conciliazione ci siamo sì pervenute nel 2013 alle pervenute alle 2013 alle schiederie di conciliazione sono 18.395 quindi registriamo un 4,3% in più rispetto all'anno 2012 e un 8,9% in più rispetto all'anno 2011 quindi ciò vuol dire che il nostro modello regge bene e quindi andiamo avanti no la distribuzione questa questa chart vi rappresenta la distribuzione delle domande di conciliazione suddivisa per i singoli settori oggetto del nostro studio quindi telecomunicazioni energia servizi bancari e finanziari servizi postali trasporti e mobilità e servizio idrico è un anno entry quest'anno il servizio idrico perché l'altro anno non eravamo riusciti a fornirvi i dati perché purtroppo le aziende non ci avevano fornito risposte è un dato parziale però abbiamo ritenuto di darvelo data l'importanza del settore e lo sviluppo che avrà il settore del servizio idrico allora gli esiti totali delle conciliazioni è il 10 di quello sì no ti controllo ti controllo io allora gli esiti totali sul numero che ho rappresentato l'80% delle conciliazioni sono state conciliate il 5% non conciliate dichiarate improcedibili l'8% e annullate il 7% quindi il dato delle conciliate rappresenta un indice di variazione rispetto al 2012 dell'11% in più e quindi questo credo che sicuramente possiamo rappresentare come un dato positivo allora qua abbiamo in valore assoluto gli esiti delle conciliazioni quindi sul vi devo dire un attimo la metodologia che abbiamo usato quest'anno che poi trovate chiaramente indicata nel rapporto sul totale delle 18.395 domande pervenute alle segreterie abbiamo aggiunto 1978 domande che erano pervenute nel 2012 ma che non erano state trattate dalle segreterie in quanto o pervenute tardi oppure erano in corso di trattazione abbiamo tolto 2642 domande pervenute nel 2013 ma ancora non trattate nel corso del 2013 e quindi sono state effettivamente trattate nel 2013 17.731 domande comunque dico questi sono dati poi che si li vuole studiare ovviamente vi rimando al libro allora il totale dei conciliatori coinvolti nelle conciliazioni sottoscritte con le aziende il numero sicuramente interessante perché il totale dei conciliatori coinvolti sono 3.919 conciliatori di cui 3.071 sono impegnati nelle associazioni e 848 nelle aziende qua occorre fare no non sono poche però bisogna fare chiaramente una precisazione le associazioni dei consumatori assistono e supportano i consumatori a livello nazionale attraverso la rete di sportelli che sono migliaia a livello nazionale quindi abbiamo necessità che il conciliatore che vuole essere realmente vicino al cittadino che presenta un problema deve essere formato quindi sono formati sia conciliatori sia operatori che operano negli sportelli a livello territoriale le aziende diciamo quasi nella totalità ma non del tutto hanno dei servizi di conciliazione accentrati nelle aziende quindi non hanno bisogno di questo numero così ampio di persone presenti sul territorio ma c'è anche un altro aspetto che è importante gli sportelli delle associazioni dei consumatori gestiscono una enorme mole di reclami il reclamo è importantissimo perché un reclamo gestito bene vuol dire che viene risolto a livello di reclamo quindi devono essere persone esperte preparate e professionalmente aggiornate perché chiaramente le normative cambiano i servizi che offrono le aziende cambiano chiaramente in un mercato così competitivo sono sempre più numerose delle volte sempre più complesse quindi i nostri conciliatori e operatori sono formati e aggiornati attraverso dei percorsi di formazione e aggiornamento ad hoc specifici per ogni settore con le aziende con le quali noi abbiamo sottoscritto protocolli di conciliazione quindi ecco forse il numero sembrerà molto ma non lo è rispetto a questa attività che le associazioni svolgono sul territorio guardiamo per ogni singolo settore l'esito delle conciliazioni fra conciliate non conciliate improcedibili e annullate rispetto al 2012 abbiamo un aumento dell'8,9% delle domande trattate quindi le conciliate sono 11.468 sulle 13.106 credo che sia un dato particolarmente interessante qua abbiamo l'incidenza degli esiti nel settore delle comunicazioni e questo lo lascio tutto a chi poi farà un'analisi statistica dei dati nel settore energia sono state trattate per quel meccanismo che vi dicevo prima 2250 domande perché ne abbiamo dovute detrarre 1041 che sono che verranno trattate nel 2014 di queste 2250 trattate 1283 hanno avuto esito positivo contro 200 io scusate ma non ci vedo pensavo di vedere le slide contro 265 non conciliate allora il settore dell'energia è in linea un po' con quello che è stato presentato l'altro anno non dobbiamo dimenticarci che è un anno che l'autorità per l'energia elettrica e il gas ha messo in atto sia il servizio di conciliazione universale ora il rappresentante dell'autorità ci dirà i dati che perché hanno fatto un convegno il 23 maggio fornendo i dati sull'attività del primo anno del servizio di conciliazione dell'Aeghe quindi questi dati i nostri e quelli dell'autorità poi per fare un'analisi compiuta vanno un attimo analizzati insieme allora anche in questo caso c'è l'incidenza degli esiti del settore energia e poi abbiamo il settore dei servizi bancari e finanziari in questo caso abbiamo trattato per quel che è spiegato bene nel libro abbiamo sono stati trattate 267 domande di cui 110 hanno avuto esito negativo devo dire purtroppo che nel settore bancario non abbiamo avuto delle grosse risposte da parte degli istituti bancari e finanziari e forse è un discorso che va maggiormente comunicato ai cittadini come possono utilizzare il servizio di conciliazione perché noi abbiamo sottoscritto numerosi protocolli di conciliazione con grandi gruppi di banche probabilmente la conciliazione stenta un po' a partire perché secondo me c'è poca informazione va assolutamente fatto una forte forte comunicazione ai cittadini perché sicuramente possono utilizzare la BF l'ombudsman altri percorsi ci sono però la conciliazione paritetica che noi ovviamente supportiamo è veloce gratuita insomma molto semplice non viene particolarmente utilizzata quindi chiediamo di poter come l'altro anno fece l'ania che ritenne di dover fare una forte campagna comunicazionale sul protocollo di conciliazione sottoscritta con lei per il settore recce auto però Fabio devo dire che ancora grandi risultati non ne abbiamo visti vanno approfonditi questi aspetti vanno approfonditi gli aspetti laddove la conciliazione stenta a partire stenta proprio a essere gestita dagli organismi con i quali noi abbiamo sottoscritto dei protocolli di conciliazione quindi parliamo di volontarietà di voglia di risolvere le conciliazioni in una maniera semplice gratuita e veloce poi se lo strumento non viene utilizzato francamente non ha neanche senso a quel punto c'è anche un ABF che funziona no c'è un ABF che funziona bene l'OMSMAN non lo so non ho presi dati però insomma allora poi su questa altra chart e l'incidenza degli ESI nel settore dei bancari e finanziari passiamo al settore trasporti e mobilità nel 2004 sono state trattate 760 domande di conciliazione il settore mobilità riguarda Trenitalia che era l'unica con la quale avevamo sottoscritto un protocollo di conciliazione autostrade e Trenitalia e Alitalia e Trenitalia questi erano i settori che erano interessati dal protocollo di conciliazione quindi le conciliazioni trattate sono state 760 di cui 562 concluse positivamente ecco la notizia che volevo dare noi avevamo concluso il rapporto dell'altro anno nel settore trasporti e mobilità augurandoci che i protocolli di conciliazione venissero estesi anche ad altri vettori chiamiamoli così devo dire con soddisfazione che nel maggio 2014 è stato sottoscritto un protocollo di conciliazione con Trenord quindi parliamo col CRCU della regione Lombardia per i pendolari quindi è il primo esempio in Italia ciò che noi abbiamo chiesto fortemente di ampliare i protocolli perché poi parliamoci chiaro chi ha i grossi problemi nel settore dei trasporti è il settore dei pendolari perché diciamo in linea di massima salvo piccoli ritardi o cose del genere l'alta velocità funziona abbastanza bene ma nel settore dei pendolari si sono sempre registrate criticità molto potenti quindi speriamo che altre no questo esempio sia di buon esempio per altri futuri protocolli di conciliazione devo solo dire che è stato solo siglato probabilmente prenderà piena attuazione entro la fine del 2014 noi ci auguriamo ho finito il tempo quasi quasi vabbè l'incidenza non ve la leggo nel settore dei servizi postali l'esito delle conciliazioni è positivo 644 su 993 domande c'è stato un calo delle domande di conciliazione ma dettato da cosa che l'efficientamento dell'attività di gestione dei reclami da parte delle strutture di assistenza clienti ha fatto in modo che probabilmente i contenziosi presentati i reclami presentati venissero risolti già a livello delle strutture messe a disposizione di poste italiane per la gestione dei reclami quindi non è che è una brutta notizia è una buona notizia se funziona ovviamente vi lascio l'incidenza settore idrico per la prima volta diamo i dati sul settore idrico devo dire hanno risposto solamente due aziende ma tanto i nomi non mi leggerete nel rapporto quindi il dato è assolutamente parziale l'abbiamo voluto mettere perché le aziende del settore idrico hanno cominciato a rispondere quindi noi siamo contenti che l'abbiano fatto e ci auguriamo che nel prossimo rapporto tutte le aziende con le quali abbiamo sottoscritto e continuiamo a sottoscrivere principalmente a livello locale protocolli di conciliazione ci rispondano su questo settore volevo solo ricordare che col decreto 6 dicembre 2011 e con successivo decreto del consiglio dei ministri sono state trasferite all'autorità per l'energia elettrica ed il gas le funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici se va avanti qui ho messo analiticamente no dopo settore idrico tutte le attività che l'autorità svolgerà no forse allora è solo mio poi le ulteriori competenze nel settore idrico sono rimangono demandate al ministero dell'ambiente e la tutela al territorio all'autorità del bacino alle regioni e all'organismo di governo locale quindi andiamo avanti qua c'è l'incidenza con le fattispecie per nei vari settori do un ultimo dato perché sono andata fuori tempo do un ultimo dato perché sono andata fuori tempo i tempi medi è l'ultima cioè ecco i tempi medi di procedura di conciliazione diciamo che rispetto al 2012 i tempi sono migliorati ve l'ho messo in comparazione salvo alcuni che sono rimasti perché i tempi ormai sono le procedure sono talmente standardizzate che i tempi sono rimasti tali e quali i tempi per alcuni settori sono migliorati per alcuni tipo nel trasporto è peggiorata perché probabilmente si sono per casi particolarmente difficili nel trasporto nel settore all'Italia sono state procedure di conciliazione talmente complesse e sono complesse che i tempi si sono allungati quindi io parlo di tempi medi quindi anche nell'energia gas i tempi medi sono migliorati nelle telecomunicazioni parlo di tempi medi non parlo di singole aziende quindi purtroppo i tempi però insomma siamo sempre abbastanza in linea considerato i tempi previsti dai protocolli le eventuali proroghe e le eventuali sospensive che vengono concesse nel settore dell'energia purtroppo ancora oggi malgrado attività che sono state fatte presso l'autorità ancora si scontano i tempi di risposta del distributore al venditore quando il distributore deve rispondere su controversie dove è coinvolto lui quindi la filiera deve assolutamente migliorare perché l'azienda che casomai è veloce nella risposta poi anche lei è al palo perché attende la risposta da un terzo che nella norma è il distributore quindi noi riteniamo che questa cosa vada assolutamente risolta perché allunga troppo i tempi di procedura delle conciliazioni specialmente nel settore vi dico solamente con l'ADR con l'ADR che no non c'è che chiaramente il legislatore dovrà lavorare molto io ho provato a fare un'analisi su tutte le fattispecie presenti in Italia per la risoluzione delle controversie individuali vi devo dire che mi sono persa sono una quantità mostruosa dalla conciliazione che conosciamo tutti la mediazione obbligatoria e facoltativa la conciliazione presso le camere di commercio sulla sub fornitura delle attività produttive nel settore telecomunicazioni la conosciamo tutti corecom agcom le camere di commercio le conosciamo l'autorità l'arbitro bancario finanziario la consob l'arbitrato rituale rituale che non so se inserirlo però esiste come forma una conciliazione societaria che devo studiare meglio l'ombudsman poi la dice tutta una procedura sulla disciplina dei licenziamenti che si trovano negli articoli di codice di procedura civile e sono tantissimi e poi ci abbiamo eh le oltre le controversie di lavoro individuali i licenziamenti la mediazione tributaria che è abbastanza recente è una riforma che dal 2 marzo 2014 la presentazione dell'istanza diventa condizione di procedibilità un articolo 5 del TULPS autorità di pubblica sicurezza che praticamente prevede che la composizione dei privati dissidi l'autorità di pubblica sicurezza deve invitare le parti a arrivare a un tentativo di accordo per la composizione dei privati dissidi poi ci abbiamo per ultimo quello che però ancora non è stato approvato quello che sarà la negoziazione assistita e camera arbitrali c'è stata un atto della camera numero 1474 e già sta producendo parecchio dibattito vi ringrazio grazie per l'attenzione grazie grazie Antonio Taboselli io mi sono insegnato due cose su cui poi su una tornare vedevo i risultati in termini percentuali di questi procedimenti di queste conciliazioni e vedevo che in qualche modo quelle non conciliate sono quasi sempre intorno all'1-2% quindi diciamo una quantità minima tranne nel settore bancario e finanziario quindi qui poi magari dopo torneremo un'ultima considerazione è quella mi tocca ovviamente quella sulla comunicazione sono profondamente d'accordo sono profondamente d'accordo sul fatto che questo tipo di pratiche vadano spiegate vadano spiegate e vadano spiegate con forza ai consumatori perché vi assicuro per esperienza personale che il lettore del salvagente tutto sommato è un lettore che di queste cose ne sa perlomeno ne ha dovuto subire come dire reintegratamente l'informazione eppure di fronte a molti casi specifici non sa che pesci prendere questo è un problema è un problema che ovviamente riguarda noi in primo luogo cioè operatori dell'informazione ma probabilmente riguarda un po' tutta la filiera perché elaborare creare e lavorare su una pratica virtuosa e poi in qualche modo non farla non dico emergere ma esplodere in un paese come questo forse è un problema che dobbiamo porci comunque andiamo con l'ultimo intervento diciamo di questa prima parte della giornata che è di Sabrina Diella che è area regolazione del mercato tutela della concorrenza innovazione di Union Camere che ci spiegherà un po' l'esperienza di Union Camere in questo settore e poi inizieremo un dibattito che prevedo diciamo anche grazie alle tante cose che sono uscite finora prevedo abbastanza diciamo intenso quindi prego do la parola a Diella grazie innanzitutto volevo ringraziare il presidente Picciolini per averci dato la possibilità insomma di essere presenti ancora una volta in questa occasione di presentazione del rapporto sulle conciliazioni paritetiche credo che l'Union Camere insomma anzi l'Union Camere ha in qualche modo dato il suo contributo anche ai rapporti precedenti quindi insomma diciamo in continuità con l'esperienza e con la collaborazione che diciamo ci vede poi tutti coinvolti nell'ambito di Consumers Forum diciamo siamo stati chiamati ancora una volta diciamo in questo evento diciamo a me il compito di insomma raccontarvi un po' rappresentarvi qual è qual è stata e qual è tuttora l'esperienza delle Camere di Commercio in tema di mediazione civile e commerciale diciamo un'esperienza abbastanza giovane per quanto riguarda la mediazione le Camere di Commercio anche se le Camere di Commercio dal punto di vista di questi strumenti e quindi dal punto di vista degli strumenti di ADR in generale quindi conciliazione ma anche arbitrato diciamo già dal 93 insomma hanno l'arbitrato ancora prima del 93 addirittura insomma hanno maturato una serie di esperienze significative che diciamo hanno in qualche modo così contribuito a a far far diventare questa funzione una delle funzioni fondamentali delle Camere di Commercio che il decreto legislativo 23 del 2010 che è insomma abbastanza vicino all'altro decreto importante sulla mediazione il 28 del 2010 ha come dire sancito suggellato come funzione che obbligatoriamente le Camere di Commercio dovevano fornire e offrire agli utenti quindi la conciliazione prima che comunque è ancora presente una conciliazione prima la dottoressa Boselli nella sua ricognizione diciamo sui modelli di ADR sui modelli di conciliazione di arbitrato italiani in qualche modo ha fatto accenno a una mediazione camerale a una conciliazione camerale alla subfornitura al diritto societario eccetera sono praticamente tutte previsioni normative che nel momento in cui hanno coinvolto le Camere di Commercio sono rientrate a far parte di un unico servizio il servizio di conciliazione camerale che ovviamente tiene conto ha tenuto conto in questi anni dell'arricchimento e delle previsioni normative ma che comunque consente all'utente diciamo di semplicemente di poter accedere diciamo ai servizi sulla base delle diverse tipologie di contenzioso in un modo chiaro flessibile e trasparente ovviamente la differenza sostanziale qual è la conciliazione da un lato e la mediazione dall'altro la cornice della mediazione civile e commerciale è un pochino diversa rispetto a diciamo la conciliazione che in cui diciamo le norme hanno disciplinato dei piccoli direi aspetti della procedura con la mediazione civile e commerciale l'intervento è stato più strutturale più corposo avvicinando il modello diciamo della mediazione al come sapete insomma al processo civile e creando insomma un collegamento stretto quindi con la legge sulla mediazione l'Italia insomma è stato uno dei primi paesi forse il primo direi a recepire la direttiva sulla mediazione civile e commerciale il ricepimento è avvenuto attraverso un disegno di legge delega l'articolo 60 che ha fissato 17 principi ripresi dalla direttiva tra quei principi la mediazione era volontaria comunque veniva in qualche modo ripreso il modello volontario della mediazione e poi il decreto legislativo 28 che ha attuato appunto l'articolo 60 scusate della legge 69 in qualche modo ha fatto un salto in più da questo punto di vista prevedendo il tentativo obbligatorio di mediazione per in modo specifico per alcune per alcune materie questo aspetto diciamo è stato abbastanza come dire dibattuto come sapete anche se diciamo noi come sistema camerale siamo stati tra i sostenitori del modello della mediazione obbligatoria perché noi in qualche modo avevamo già vissuto l'esperienza della mediazione obbligatoria nell'ambito del settore delle telecomunicazioni e quindi la nostra convinzione diciamo indipendentemente dal come dire dal fatto e comunque non avevamo vissuto positivamente anche l'esperienza della mediazione volontaria e della conciliazione volontaria però l'obbligatorietà dal nostro punto di vista in questo momento rappresenta un aspetto fondamentale soprattutto dal punto di vista culturale perché può rappresentare diciamo quell'elemento che consenta a questo strumento di essere effettivamente conosciuto e di potersi in qualche modo radicare poi nei comportamenti delle imprese e dei consumatori questo è stato il nostro punto di partenza rispetto al ragionamento sull'obbligatorietà e quindi ecco perché noi insieme a tanti altri ai professionisti non solo gli avvocati insomma i commercialisti gli ingegneri i notari insomma tutte le professioni da questo punto di vista ma anche molte associazioni di categoria con il supporto diciamo dei ministeri competenti abbiamo in qualche modo cercato insomma di sostenere questa obbligatorietà la disciplina come ho detto è stata una disciplina è una disciplina abbastanza strutturata e abbastanza dettagliata che interviene su aspetti specifici diciamo parò de flash non vi voglio quella penso che insomma ormai è una normativa abbastanza conosciuta quindi ecco giusto per darvi un po' il quadro e quindi interviene sui termini sulla durata sulla riservatezza che è un aspetto fondamentale di questo modello di mediazione sugli obblighi dei mediatori sulla formazione dei mediatori diciamo è un aspetto su cui noi abbiamo che abbiamo fortemente sostenuto la tradizione del sistema camerale sulla formazione dei mediatori diciamo una tradizione di corsi di formazione e di investimento sulla formazione dei mediatori diciamo che parte da degli standard uniformi definiti dall'Union Camere e adottati da tutte le Camere a partire già dal 2002 per cui insomma sulla formazione noi siamo stati dei grandi sostenitori perché sappiamo che la bontà delle mediazioni in qualche modo dipende dalla qualità e dalla professionalità dei mediatori e poi c'è tutto il meccanismo e quindi l'indennità prefissate il gratuito patrocinio il credito d'imposta che è una previsione ahimè diciamo poco attuata direi su cui insomma infatti stiamo cercando di sollecitare anche il Ministero della Giustizia in qualche modo a cercare di rendere operativa questa previsione che attualmente purtroppo non lo è e poi tutto il meccanismo dell'accreditamento le Camere di Commercio sono state considerate tra i soggetti iscritti di diritto nel registro che è tenuto dal Ministero della Giustizia come sapete insieme agli ordini professionali e il meccanismo dell'accreditamento che è stato un meccanismo che appunto deriva da un decreto ministeriale ha consentito in qualche modo di uniformare di standardizzare sulla base di principi fissati all'interno del decreto ministeriale il 180 diciamo la qualità e l'organizzazione insomma degli organismi diciamo è stato un po' difficile all'inizio insomma in qualche modo cercare di standardizzare e di dare attuazione alla normativa ma credo che diciamo un buon livello di principi e di requisiti ha consentito oggi forse ancora di più rispetto magari a un anno fa agli organismi attualmente scritti di avere uno standard di qualità abbastanza uniforme il ministero diciamo da questo punto di vista poi ha cercato anche di organizzarsi per fare dei controlli e quindi per esempio anche le stesse camere di commercio sono state oggetto di molte ispezioni nell'ultimo periodo e devo dire che insomma a noi questo ha in qualche modo consentito di dare il nostro contributo ma di avere poi la possibilità insomma della garanzia insomma di un servizio come dire qualitativamente corretto e rispettoso dei principi per il diciamo buon funzionamento poi alla fine della procedura quindi il sistema d'accreditamento sostanzialmente è stata la novità che riguarda sia gli organismi ma anche i mediatori dal punto di vista dell'entrata in vigore diciamo il primo pacchetto di materie è stato avviato dal punto di vista dell'obbligatorietà il 21 marzo 2011 e poi sono subentrate il condominio e l'RC auto nel nel 2012 diciamo in seguito a questa previsione ovviamente poi c'è stata la sentenza la famosa sentenza del dicembre 2012 che ha in qualche modo si è inserita tra l'altro in un momento in cui la mediazione ormai stava non dico che era decollata perché sicuramente i numeri che che insomma le statistiche che poi alla fine ministeriali avevano fornito alla fine non erano stati raggiunti diciamo nell'ambito della prima esperienza però era un momento in cui le mediazioni cominciavano a farsi e quindi l'esperienza era abbastanza significativa e la sentenza della Corte Costituzionale che ha in qualche modo annullato la previsione dell'obbligatorietà per eccesso di delega ha interrotto questo percorso e diciamo ha in qualche modo come dire danneggiato io direi il modello e il meccanismo della mediazione che poi subito dopo ha avuto un arresto significativo e dal punto di vista della nostra esperienza questo arresto diciamo ha in qualche modo impedito anche ha interrotto anche una certa continuità nel deposito delle mediazioni e delle conciliazioni volontarie quindi dal nostro punto di vista ha un po' danneggiato tutto il sistema delle ADR in Italia e poi diciamo quindi c'è stato tutto un movimento insomma a sostegno della reintroduzione dell'obbligatorietà a partire dallo stesso Ministero della Giustizia dalla Corte di Cassazione dall'Unione Europea che con una raccomandazione diciamo in qualche modo aveva sollecitato l'importanza della reintroduzione della condizione di procedibilità e anche noi nel nostro piccolo come sistema camerale abbiamo in qualche modo sollecitato sia il Parlamento che il Governo anche attraverso un'audizione in Parlamento a ripristinare il modello della mediazione obbligatoria e quindi col decreto del fare del 2013 diciamo anche con delle differenze rispetto al passato che dal nostro punto di vista un po' hanno indebolito il sistema della mediazione e su cui bisogna sicuramente intervenire per cercare di migliorare e per aggiustare alcuni passaggi diciamo la mediazione in qualche modo è stata l'obbligatorietà della mediazione è stata ripristinata con delle appunto come vi dicevo con delle piccole diciamo modifiche piccole insomma non proprio piccole ecco insomma con delle modifiche allora innanzitutto un'obbligatorietà a tempo l'obbligatorietà della mediazione avrà una come dire una sperimentazione di 4 anni quindi è stata reintrodotta il 20 settembre del 2013 e quindi potrà essere sperimentata per 4 anni e poi si tireranno le fila di questa esperienza per capire insomma se ci sono le condizioni credo per poter io spererei di sì però insomma per poter continuare con questo modello c'è stato un intervento per ridurre i tempi già erano abbastanza stretti prima erano 4 mesi di durata massima adesso sono 3 mesi è stata prevista la competenza territoriale questo è stato un aspetto insomma che ha un po' diciamo creato qualche problema circa il deposito poi delle istanze però diciamo poi alla fine abbiamo cercato di risolvere anche attraverso l'utilizzo degli strumenti online insomma e quindi anche da questo punto e dando delle informazioni corrette perché ovviamente con la competenza territoriale l'utente deve avere delle informazioni precise rispetto alle sedi e alla presenza degli organismi nel territorio e quindi anche il ministero della giustizia in qualche modo ha cercato insomma di dare di arricchire l'elenco con delle informazioni ulteriori che consentissero poi all'utenza di individuare insomma la sede dell'organismo competente nel territorio la mediazione delegata che devo dire la verità che rappresenta il 2% dell'esperienza ma nel scusate delle mediazioni depositate ma che nell'ultimo periodo sta prendendo piede i giudici c'è una grossa sensibilità da parte dei magistrati in questa fase rispetto a questo strumento e quindi per esempio alle camere ma credo a molti organismi arrivano molte mediazioni delegate dai giudici anche se poi i giudici da questo punto di vista nei rinvii diciamo in qualche modo si spingono un po' oltre intervenendo anche su aspetti della procedura che diciamo ci complicano un po' la gestione dei procedimenti ma che comunque diciamo sono delle diciamo delle esperienze positive e sono delle azioni positive per la mediazione la previsione del titolo esecutivo con diciamo il ruolo dato affidato agli avvocati della possibilità attraverso di dare da subito diciamo il valore di titolo esecutivo al verbale aspettate mando e poi l'assistenza legale degli avvocati questa diciamo è una novità quindi c'è la previsione esplicita nella legge come sapete dell'assistenza dell'obbligatorietà dell'assistenza legale degli avvocati nelle mediazioni in realtà già prima di questa previsione nell'80% dei casi le parti si presentavano assistite dall'avvocato certo c'era un 20% ovviamente in cui la parte poteva presentarsi anche da sola questa previsione comunque è collegata esclusivamente alle materie obbligatorie quindi nella mediazione volontaria le parti possono presentarsi anche da sole è una previsione che un po' diciamo sta creando qualche problema perché non sempre gli avvocati sono dei sostenitori della mediazione non sempre sono informati rispetto allo strumento e spesso confondono la mediazione con il processo quindi insomma l'opera dei mediatori e dei colleghi insomma che curano le segreterie non è facile soprattutto rispetto alla gestione degli avvocati quindi questo è un aspetto su cui credo è necessario comunque intervenire e lavorare per fare in modo che per far funzionare lo strumento perché è un aspetto che incide proprio sulla sull'utilità e sulla funzionalità dello strumento la fotografia dell'esperienza attualmente 102 camere di commercio sono iscritte al registro e rappresentano il 10% degli organismi iscritti nel registro del ministero sono circa 900 alcuni grazie alle ispezioni sono stati cancellati quindi rispetto ai 1020 che avevamo fino a qualche tempo fa c'è una riduzione per queste ispezioni che il ministero della giustizia sta facendo quindi il 10% abbiamo gestito a fine 2013 i dati sono in appendice al rapporto 43.400 mediazioni io ho aggiornato il dato a diciamo questo è il dato aggiornato a maggio 2014 e siamo arrivati a 50.000 quindi insomma penso che è un buon risultato il 25% di tutte le mediazioni gestite dagli organismi di mediazione iscritti nel registro che dovrebbero essere circa 200.000 quindi insomma è una bella fetta di responsabilità io dico perché insomma non è molta soddisfazione ma non è diciamo la mediazione non è una cosa semplice ecco sicuramente efficace ma richiede tantissimo lavoro un valore medio di 71.000 euro questo è sempre appunto di fine 2013 con 46 giorni di durata i dati di aprile appunto citavano una durata di 36 giorni quindi ancora più ridotta è un valore medio di 100.000 euro l'andamento insomma si vede da questa slide è abbastanza diciamo in crescita questo è il dato aggregato invece questo è l'andamento diciamo a livello mensile quindi qua si vede proprio il picco diciamo della mediazione nella parte in cui la sentenza insomma aveva prodotto i suoi risultati i suoi effetti con diciamo la ripresa poi a ottobre 2013 con il decreto del fare quindi i tentativi obbligatori in qualche modo hanno poi incrementato i dati una così un ulteriore dettaglio la maggior parte delle mediazioni che noi gestiamo sono in materia bancaria e facciamo ancora di queste mediazioni il 40% sono ancora volontarie perché noi abbiamo grazie all'accordo con Agicom un ruolo anche nel settore delle telecomunicazioni che insomma prima avevamo avuto un accordo con Telecom poi abbiamo realizzato un accordo con Agicom che abbiamo rinnovato recentemente e quindi le Camere di Commercio gestiscono una buona quota di mediazioni in materia di telecomunicazioni quindi ecco per noi le volontarie sono ancora una fetta importante diciamo dell'attività il 40% nonostante appunto la mediazione obbligatoria a cui teniamo particolarmente ovviamente diciamo tutto questo a che serve l'ADR in qualche modo in Italia ha un ruolo fondamentale la crisi della giustizia naturalmente è nota e quindi i 9.000 procedimenti pendenti hanno bisogno in qualche modo di questi strumenti diversamente è difficile si parla di processo telematico si parla di appunto razionalizzazione delle attività di incremento del numero dei magistrati però anche se in Europa i nostri magistrati sono quelli insomma che dal punto di vista dell'efficienza hanno sicuramente sono in una posizione più elevata quindi io credo che il ruolo di questi strumenti in Italia e in Europa sia fondamentale per andare incontro a quella che è definita la crisi della giustizia il doing business insomma ci ricorda sempre la posizione italiana rispetto ai tempi e quindi su come incide questo aspetto sulla possibilità di fare impresa in Italia e sulla competitività del nostro paese quindi ecco questi sono due elementi fondamentali il ruolo delle camere di commercio da questo punto di vista è stato non solo quello di offrire servizi ma quello di diffondere la cultura quindi credo che da queste sedi dovrebbe in qualche modo proprio per superare le problematiche che dicevamo di orientamento di diffusione della conoscenza degli strumenti considerando che sono molti ma tutti hanno una loro dignità dalla conciliazione paritetica alla mediazione a tutte le altre forme diciamo di ADR credo che lo diceva Quintili ma lo diceva anche Picciolini ma lo diceva l'ha ricordato Frateri ma anche la Boselli l'importanza dell'informazione ecco io credo che tutti insieme potremmo fare qualcosa di più da questo punto di vista noi abbiamo la nostra settimana della mediazione che speriamo di fare anche quest'anno e che potremmo mettere a disposizione diciamo di questo per raggiungimento di questo obiettivo ma potremmo anche costruire qualcosa di specifico considerando che col semestre europeo naturalmente tutti potremmo avere un ruolo maggiore anche per sensibilizzare l'Europa rispetto al nostro modello anche perché la recente raccomandazione dell'Unione Europea all'Italia sul diciamo sugli obiettivi e su come migliorare sostanzialmente la condizione del paese e quindi la raccomandazione al governo quella recente del 2 giugno torna ancora sul tema della giustizia e quindi dell'efficienza e del processo telematico e della mediazione ricordando che comunque la mediazione ha funzionato ma c'è un piccolo aspetto negativo il tema degli accordi è vero diciamo il problema della mediazione sono gli accordi il 50% delle parti si siedono al tavolo nel 30% e il 30-40% si raggiunge l'accordo tema che per esempio sulle conciliazioni paritetiche invece non c'è nel senso che il valore aggiunto delle conciliazioni paritetiche è proprio l'accordo l'80% ricordava Antonietta Boselli delle conciliazioni raggiunge l'accordo quindi io credo che il match di queste funzioni possa far la differenza e debba ispirare l'Europa per capire che il modello italiano potrebbe essere un modello vincente noi abbiamo la possibilità di sedersi a vario titolo sui tavoli del Parlamento europeo o della Commissione europea ma anche di progetti europei che ciascuno di noi e ogni volta su questi temi penso l'esperienza di ciascuno di noi è che possiamo verificare che la nostra esperienza è unica sia dal punto di vista della qualità che dal punto di vista dei modelli che dal punto di vista dei numeri ecco io credo che questo aspetto sia un aspetto da valorizzare perché rappresenta una best practice da difendere e da sostenere io mi fermo qui poi dopo sul tema della raccomandazione avremo tempo più avanti grazie grazie mille ora apriamo diciamo la fase di dibattito di tavola rotonda io ho già al momento diciamo dubito che si possa andare molto più in là di questo 11 iscritti a parlare vi chiederei di di fare interventi brevi perché probabilmente diciamo ci saranno ci saranno modi e tempi anche per avere altre altri interventi quindi da questo momento poi cercherò di essere un pochino più rigido ma innanzitutto do la parola a Oreste Galliano che diciamo ha un punto di vista alto e privilegiato da professore associato di diritto privato dell'Unione Europea dell'Università di Torino e da direttore del CEDIC che lo ricordo è il Centro Europeo di Diritto di Informatica del Consumo quindi diciamo una relazione una relazione importante grazie Presidente ma credo che dopo questi inquadramenti generali e dopo questi numeri che sono significativi il compito nostro non sia quello di ripetere esaminare i numeri ma trovare delle chiavi di lettura dell'esperienza passata ma soprattutto del futuro in particolare per un professore universitario credo che il compito sia quello di stimolare il dibattito e di fare un minimo di analisi costi e quindi vantaggi stimoli in termini di efficienza tre premesse però sono necessarie proprio per inquadrare questo momento che ritengo un momento storico una prima premessa è questa noi siamo a 25 anni dal inizio della progettazione della conciliazione paritetica quindi abbiamo di fronte un'esperienza significativa i numeri ce lo indicano con un risultato riconosciuto a livello europeo e quindi con la possibilità questo documento lo insegna di dire al legislatore nazionale attenzione è un'esperienza importante che devi prendere in considerazione secondo elemento altrettanto importante chiamiamolo il legislatore nazionale o se volete il regolatore oggi non è più neutro avrete letto la scorsa settimana che è stato nominato direttore dell'organizzazione del ministero della giustizia civile il dottor Mario Barbuto che è stato presidente del tribunale di Torino e poi della corte appello di Torino ma soprattutto ha due caratteristiche molto importanti è un amico gli abbiamo insegnato il diritto dei consumi lui lo dichiara ogni volta che facciamo i convegni e 15 giorni fa prima dell'inizio della campagna elettorale europea partecipò come presidente ad un workshop sulla giustizia civile e uno dei temi su cui batte fu il tema della mediazione Barbuto è rappresentante di quel filone che vede la giustizia non solo come l'acquisizione di un diritto costituzionale cioè l'accesso alla giustizia ma anche come un servizio pubblico e quindi come tutti i servizi pubblici deve essere valutato in termini di organizzazione in termini di efficienza e in termini di analisi costi benefici noi investiamo con le nostre imposte sulla giustizia civile e purtroppo non abbiamo i risultati che ci aspettiamo non li abbiamo in termini di tutela dei soggetti che accedono alla giustizia la lentezza della giustizia è spaventosa avete visto 1066 giorni contro gli 82 di una giustizia coesistenziale molto più efficiente più rapida e meno costosa non li abbiamo in termini di investimenti di imprese straniere in Italia che non investono soltanto perché il costo del lavoro è più elevato ma preferiscono investire in un paese in cui la giustizia è più rapida e soprattutto è più certa e quindi non crea problemi all'amministratore delegato per giustificare il consiglio di amministrazione perché deve tenere per 10 anni a riserva somme di denaro in attesa che la giustizia faccia il suo corso e poi il tema delicatissimo della condanna dell'Italia frequentemente per diniego di giustizia dal consiglio d'Europa che è un altro elemento di carattere scandaloso allora lasciando stare i dati e vedendo agli aspetti che possono essere oggetto di stimolazione io mi limiterei ad affrontare tre o quattro tremi fondamentali anzitutto il tema della diffusione della cultura della mediazione allora si dice sempre che l'Italia non ha una cultura della mediazione questo è abbastanza interessante e se vediamo i dati vediamo che la cultura della mediazione si sta sviluppando in certi settori diciamo tendenzialmente nei settori a basso valore e si sta diffondendo meno nei settori ad alto valore delle controversie allora qua c'è da porsi un problema sono gli operatori economici che preferiscono la lentezza della giustizia come avveniva 15 o 20 anni fa d'un pende trendet non soltanto per l'avvocato ma anche per la compagnia di assicurazione o è una cultura di mancanza della mediazione anche del mondo delle imprese che quindi è stata abituato in passato a utilizzare la lentezza della giustizia come un volano finanziario che non vorrebbe perdere sotto questo profilo io lo pongo come un punto interrogativo non come una valutazione di questo genere l'altro aspetto è che ci sono nuovi settori in cui il tema della mediazione diventerà strategico mi limito a evocarli la responsabilità medica pensate la legge Balduzzi va nella direzione della responsabilità medica vedremo se questo che è un settore delicatissimo per due aspetti da un lato il tema delicato della enorme espansione del risarcimento del danno da parte delle corti e dall'altro lato e questo mi ha lasciato sconvolto molte compagnie di assicurazione che non assicurano più certi tipi di attività medica gli ostetrici i chirurghi plastici gli anestesisti perché sono troppo a rischio di cui la strada da un lato quella della mediazione e dall'altro lato quello di evitare la cosiddetta medicina cautelativa che sta ponendo dei costi enormi in termini di analisi preventive nei confronti del sistema medico qua è un problema di cultura dei medici ma è un problema anche di cultura degli avvocati e di cultura degli operatori tenete conto che sarà un settore lo insegno negli Stati Uniti d'America di grande espansione dell'attività contenziosa quindi se non lo preveniamo andiamo di fronte l'altro tema che si espanderà è il tema del commercio elettronico Amazon ha fatto grossi investimenti perché è convinto che l'Italia molto in ritardo si espanderà nel commercio elettronico e quindi qua la tematica del commercio elettronico è una tematica da tenere sotto il riflettore per due motivi primo perché c'è un'alternativa agli strumenti che finora abbiamo posto in essere la ODR online dispute resolution ma bisogna vedere se l'associazione dei consumatori e le camere di commercio sono in grado di gestire questo marchigegno che gli inglesi e i tedeschi hanno già messo in il secondo perché in questa materia le regole non sono nazionali ma sono sicuramente europee e non sono neppure regole statali ma sono la cosetta soft law cioè i codici di condotta i codici di comportamento e il consumatore italiano è lietissimo di applicare delle regole inglesi o tedesche al commercio elettronico si tratta di vedere se gli operatori economici italiani di fronte a regole che non hanno negoziato forse perché non avevano le competenze operative per discutere a Bruxelles che si vedono arrivare addosso e che hanno dei tempi tecnici di gestione cambiare le procedure le logiche a volte anche la formazione possono portare le nostre imprese in crisi e voi sapete che il commercio elettronico oggi non vuol mica dire soltanto più comprare l'oggettino il commercio elettronico sta diventando la distribuzione del futuro in Italia secondo tema che vorrei impostare i miglioramenti della formazione paritetica io faccio formazione paritetica per Consumer Forum da lunghissimi anni e vi dico che alcuni aspetti sono aspetti molto positivi il primo aspetto positivo che la formazione paritetica cioè avere attorno al tavolo sia rappresentanti delle associazioni che rappresentanti delle imprese crea un linguaggio comune e come sappiamo il linguaggio comune è la premessa da un lato per dialogare e dall'altro lato per discutere a volte litigare a volte negoziare correttamente il secondo è il tema della simulazione dei ruoli cioè individuando attraverso meccanismi di carattere psicologico il ruolo della controparte si riesce anche a capire spesso qual è l'esigenza della controparte io dico spesso che nella mediazione ci sono di mezzo i parenti e ci sono di mezzo i dirigenti cioè il mediatore sarebbe ben disponibile ma poi ha alle spalle qualcuno che potrebbe sollevare problemi di questo genere il terzo aspetto molto positivo è la professionalità delle rappresentanti dell'associazione dei consumatori e la professionalità dei rappresentanti dell'azienda sulla professionalità dell'associazione dei consumatori sappiamo tutti che cosa vuol dire sui rappresentanti delle aziende si tratta di cambiare la mentalità della vecchia logica del marketing in una mentalità del marketing relazionale cioè individuare che il rapporto di con un'espressione che a me non piace ma utilizziamo la fidelizzazione del cliente è molto più interessante del rapporto dello strappare il cliente e la concorrenza questo diventa strategico in un momento di crisi economica in cui la fiducia sta diventando l'elemento fondamentale da non perdere da riconquistare o da conquistare in quanto tale e qua abbiamo due elementi importanti da giocarci la best practice a livello europeo e la best practice a livello italiano a livello europeo credo che questo modello sia il modello più interessante per recuperare la fiducia in un momento di crisi economica e questo dobbiamo avere il coraggio di dirlo ai tedeschi ai francesi agli inglesi che hanno tradizionalmente un altro tipo di approccio magari gli svedesi e i finlandesi hanno un rapporto che storicamente è stato di relazione con i consumatori e quindi non hanno problemi di questo genere ma non hanno un modello che è quello di ricostruzione della fiducia quindi il modello di ricostruzione della fiducia come sapete la fiducia si conquista lentamente e si perde molto rapidamente riconquistarla pensate nei rapporti di coppia è una delle cose più difficili e quindi questo può essere un modello da vendere a livello europeo come un modello da esportare nei paesi d'Europa centro orientale dove la crisi l'elezione europea e l'assenteismo alle elezioni europee lo dimostra sta mordendo profondamente l'Europa viene vista come una matrigna mentre prima era vista come una mamma buona ecco far vedere che il mercato ha degli elementi di durezza ma anche dei meccanismi che possono essere di recupero della fiducia può essere importante ultimo elemento di riferimento la best practice italiana e qua si tratta di diffondere la mediazione in settori in cui io vedevo i numeri e i numeri sono bassi turismo turismo sta diventando probabilmente una delle industrie in cui investiremo nel futuro la Spagna ci ha provato e ci è riuscita costituzionalizzando il diritto dei consumatori realizzando l'arbitraje del consumo e dicendo sostanzialmente ai consumatori del nord Europa venite a comprare casa in Spagna venite ad acquistare in Spagna se avete controversie avrete un canale privilegiato per poter risolvere le vostre controversie secondo le imprese di servizi universali in particolare di servizi universali locali pensate al tema dei trasporti quando ci sarà perché è evidente un taglio fortissimo da parte degli enti locali e il consumatore incavolato che sta aspettando da 20 minuti l'autobus se la prenderà prima con l'autista che dice io non ne posso niente poi con l'amministratore che dice ho pochi quattrini e poi col padre eterno perché piove governo ladro è tipicamente un caso italiano ecco lì bisogna investire noi a Torino abbiamo un master in questa direzione ci rendiamo conto che gli enti locali stanno facendo degli sforzi ma sono sforzi di comunicazione e di informazione e qua vorrei giungere ad un principio di conclusione qua dobbiamo avere il coraggio proprio perché sono stati 25 anni di crearci un nostro linguaggio o se volete di cambiare il linguaggio esistente provo a buttarvi tre provocazioni noi abbiamo sempre parlato di ADR Alternative Dispute Resolution io ho detto guardate con questa espressione che nasce nel mondo americano perdiamo questa non è alternative fa arrabbiare i giudici fa arrabbiare gli avvocati fa apparentemente contenta le imprese salvo poi verificare che le imprese accettano solo in parte l'alternative cioè scelgono loro quali sono i settori da mediare secondo linguaggio da modificare abbiamo parlato all'inizio di consumatori come interlocutori delle imprese poi siamo arrivati ai consumatori come attori della mediazione io prefererei arrivare ma non ci siamo ancora ai consumatori come agenti della mediazione cioè considerare questo un contropotere alle per esempio pratiche commerciali isleali che in momenti di crisi a volte si stanno verificando e però il contropotere chiede responsabilità cioè impone professionalità impone capacità negoziale e impone una visione strategica allora vorrei chiudere con tre citazioni provocatorie la prima ai giuristi viene da Manzoni Ladelchi la società vive su una regola tremenda che gli esperti chiamano dritto quindi immaginate l'espressione regola tremenda la seconda al giudice il giudice ha il dovere di rispettare il diritto e di rinviarne l'applicazione il giudice rigoroso decide il giudice saggio attende pensate se non è la logica del mediatore infine sul piano della formazione il metodo per imparare più ampio è lo studio il più facile è l'imitazione il più faticoso ma più proficuo è l'esperienza è di Confucio e voi sapete che la Cina è la patria della mediazione grazie 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 davvero degli spunti su cui probabilmente rifletteremo a lungo direi che diamo la parola intanto a Giuseppe Leonardo Carriero componente dell'arbitro bancario finanziario mentre a lui probabilmente una delle domande anche se dal punto di vista dell'ABF è capire un po' perché in un altro campo quello della conciliazione osservavamo dei dati così diciamo differenti in quanto a conclusioni delle conciliazioni rispetto agli altri settori dunque il codice deontologico al quale io in quanto membro effettivo del collegio sud di Napoli dell'ABF sono sottoposto mi impone e lo faccio ben volentieri di premettere che parlo a titolo naturalmente personale perché questo non possa inficiare quella che è l'indipendenza alla quale tutti noi siamo chiamati a svolgere la nostra attività provo a risponderle però prima la relazione che mi ha preceduto l'intervento mi ha preceduto mi sollecita una riflessione che porgo all'attenzione di tutti e la riflessione riguarda oltre che le evoluzioni naturalmente delle formule di se non ci piace ADR di giustizia stragiudiziale di giustizia così come io la definisco fuori dalla giurisdizione perché non è detto da nessuna parte che l'unica forma di giustizia debba essere dentro la giurisdizione e con la giurisdizione questo deriva da uno strabismo di lettura nostra del giurista nostrano dell'articolo 102 della Costituzione tutto è nella giurisdizione come archetipo di normativismo chelseniano di lettura giustizia della Costituzione italiana insomma altri paesi la Cina è stata evocata qualche minuto fa fino udite udite al 1982 non aveva un codice di procedura civile le controversie dei cinesi si svolgevano fuori dai tribunali forse che i cinesi non avessero condomini non avessero questioni concernenti a contratti proprietà responsabilità civile e altro no semplicemente espressione di una cultura diversa di una cultura che si muove al di fuori della giurisdizione ma ecco partirei dall'evocare il convitato di pietra il convitato di pietra è l'Europa è il grande assente in questa vicenda insomma mi viene facile come sparare sulla croce rossa evocarlo con riguardo proprio alla responsabilità sanitaria perché il problema che veniva segnalato deriva dal mutamento giurisprudenziale e dall'applicazione della disciplina della responsabilità da contatto sociale riguardo appunto alla responsabilità sanitaria un tempo il medico rispondeva in base alla norma generale sui fatti illeciti del 2043 del codice civile il criterio era quella della responsabilità quigliana visto che non c'era un contatto diretto col paziente sto parlando naturalmente del medico all'interno della casa di cura o del medico che comunque non abbia un contratto con il paziente il risultato era un termine di prescrizione quinquennale e soprattutto il risultato era un onere della prova in capo all'attore era il paziente a dover dimostrare in qualche misura l'imperizia del medico e comunque il nesso causale tra il fatto l'evento è appunto la responsabilità per colpo dolo con la responsabilità da contatto sociale tutto viene ad essere modificato nel senso cioè al di là del termine di prescrizione che finisce per essere un termine di prescrizione lungo decennale ma soprattutto mi basta allegare l'inadempimento e cioè che si è verificato un fatto diverso da quello che io avevo posto come condizione per l'intervento del medico dovrà essere il medico a dimostrare di aver fatto tutto quello che era umanemente possibile e di più perché anche l'ignoto gli viene accollato e dovrà essere il medico a dimostrare che appunto i paradigmi di riferimento della scienza medica sono assolutamente identici a quelli che sono stati praticati di qui alla medicina cosiddetta difensiva che pure veniva provocata e passa breve a me preoccupa a questo punto non più intervenire per sollevare la salute del paziente a me interessa intervenire per sottrarmi a questo tipo di responsabilità e le imprese di assicurazione come fanno ad assicurare una responsabilità oggettiva perché la colpa naturalmente si scolorisce si fatta perché cito l'Europa perché siamo solo noi ad avere un approccio alla responsabilità sanitaria di questo tipo in Europa lasciano perdere gli Stati Uniti d'America per esempio io vi cito questo poi parlo di ABF perché insomma non sono qui per parlare di responsabilità del medico in Inghilterra per esempio hanno una cultura di aprilemento opposta a quella del buon samaritano italiano il medico che si trovi a verificare una fattispecie di malessere per strada o quello che sia che da noi provocherebbe se non intervenisse la omissione di soccorso non deve intervenire e anzi rischia soltanto se interviene perché se dal suo intervento è derivato un peggioramento delle condizioni del paziente a quel punto si becca la responsabilità questo vale per l'Inghilterra ed è portatrice di una cultura diametralmente opposta alla nostra ma con varie gradazioni io vi invito a leggere la disciplina responsabilità sanitaria in Germania in Francia e in Spagna ricalerete tutti l'impressione che ci troviamo di fronte a una nostra disciplina che è marziana rispetto a ma questo è un settore sul quale l'Unione Europea non interviene non è un settore armonizzato e allora il conciliatore che puffa onestamente ma non posso bruciare il mio tempo quindi arbitro bancario finanziario l'arbitro bancario finanziario è testimonianza per un verso di un successo a circa cinque anni dalla sua entrata dalla sua istituzione che è avvenuta nell'ottobre del 2009 di un grande successo e per altro verso è testimonianza sul piano culturale di un mutamento profondo di filosofia di intervento tanto del legislatore quanto delle autorità di settore riguardo al risparmiatore perché in passato non molto remoto le controversie tra risparmiatore e impresa bancaria finanziaria assicurativa appartenevano al settore privato non certo al settore dell'interesse generale non certo a quello dell'interesse pubblico il mutamento di prospettiva discende dalla circostanza che è stato citato anche in questa mattinata doing business la concorrenza tra gli ordinamenti e la crescita della domanda di beni di consumi che non può prescindere da un acconcio meccanismo di giustizia civile la sana e prudente gestione che non può prescindere dalla circostanza che comportamenti virtuosi possano in qualche misura realizzare anche gli obiettivi di vigilanza e quant'altro ha determinato determina un mutamento progressivo delle categorie giuridiche è emblematico il libro di un grande maestro quale Nicola Lipari dello scorso anno con un progressivo sfaldamento di quelle che sono le nostre ipostatizzazioni di distinzione tra pubblico e privato in questo alveo si colla l'abito bancario finanziario che non a caso viene ad essere istituito da una legge quella famosa famigerata del 2005 la numero 262 che è la legge della tutela del risparmio che muove dagli scandali finanziari succeduti in quel torno d'anni e pensa ritiene che la istituzione di questo organismo pubblico per la risoluzione delle controverse che sostituisce l'organismo autopoietico fino all'ora esistente che era l'ombus bambancario che in parte qua non ha più ragione di esistere ben possa realizzare obiettivi di interesse generale obiettivi di interesse pubblico l'arbitro bancario finanziario ve lo ricordo in pillole perché il tempo davvero è molto breve è strutturato in tre collegi che compongono le tre grandi macro aree del paese a nord c'è il collegio di Milano al centro quello di Roma e a sud quello di Napoli che in qualche misura individuano la competenza territoriale e l'organismo ha una competenza per materia servizi bancari servizi non finanziari la locuzione arbitro bancario finanziario è misleading perché sembra evocare la consob non è quello non sono gli strumenti finanziari arbitro bancario se proprio volete ripetervi arbitro bancario creditizio riguardo operazioni raccolta operazioni rievocazioni creditizie e poi con un decreto legislativo del 2010 numero 11 anche in materia di servizi di pagamento che tra l'altro sono le controversie che maggiormente affollano questo organismo competenza per materia su questi temi assolutamente universale per l'accertamento dei diritti competenza per valore circoscritta al risarcimento del danno di controverse fino a 100.000 euro che non è molto non è basso come valore monetario è una ADR decisoria giudicativa sì perché l'arbitro bancario emette una propria decisione una propria decisione che non è esecutiva non è esecutoria come quella del giudice perché arbitro bancario giudice non è ma ha i crismi dell'effettività e diremo fra un attimo perché ma è soltanto apparentemente un ADR aggiudicativo decisoria in realtà il sistema arbitro bancario finanziario contiene in sé anche un momento conciliativo il momento conciliativo viene confuso con la condizione di procedibilità perché prima di poter adire l'arbitro occorre bussare alla porta della banca o delle imprese finanziarie attraverso il reclamo e soltanto nel caso di mancato riscontro entro 30 giorni oppure di risposta insoddisfacente è consentito adire l'arbitro bancario ma quello al di là della condizione di procedibilità realizza il momento conciliativo la possibilità che i due possano negoziare possano divenire a un accordo transattivo rispetto alla controversia che viene ad essere rappresentata all'arbitro bancario i dati sull'arbitro bancario finanziario pubblicati nell'ultima relazione del governatore della banca d'italia a testimonianza di importanza che banca d'italia scrive a questa a questa vicenda quindi la relazione del 31 di maggio di qualche giorno fa sono nel senso che i ricorsi del 2013 prodotti all'arbitro sono stati esattamente 7.862 con una crescita del 39% rispetto al 2012 il quale nel 2012 era cresciuto del 40% rispetto al 2011 e così via discorrendo sono stati decisi nel corso del 2013 6.300 ricorsi con un incremento di 2.000 ricorsi decisi in più rispetto all'anno precedente le percentuali di accoglimento dei ricorsi a favore del consumatore o in generale del cliente perché sapete che l'arbitro bancario finanziario può essere addito non soltanto al consumatore nella formulazione dell'articolo 33 del codice del consumo ma anche il piccolo imprenditore anche il professionista con una composizione a geometria variabile del collegio il collegio è composto da 5 membri presidente e due membri nominati da banca d'italia gli altri due tre perché appunto a seconda dei casi viene in considerazione la presenza del rappresentante dei consumatori oppure la presenza del rappresentante di confindustria insomma degli industriali sono disegnate dalle associazioni di categorie ebbene da questo punto di vista i dati relativi al 2013 sono nel senso dell'accoglimento con decisione di accoglimento parziale o totale delle ragioni del cliente pari al 70% dei ricorsi percentuale maggiore rispetto a quella dello scorso anno che era già alta era pari al 60% dei ricorsi e allora forse io procedo in gran fretta naturalmente perché insomma tante cose ci sarebbero da dire ma siamo schiavi di una variabile che ci sovrasta che è quella temporale gli obiettivi che il legislatore si era posto nell'istituzione di questo organismo erano sono tre e sono scolpiti nella norma dell'articolo 128 bis del testo unico bancao rapidità economicità effettività economicità è un sistema assolutamente economico viene attivato col versamento di un contributo al costo di procedura di appena 20 euro che verrà restituito nel caso di accoglimento in tutto e in parte delle ragioni del ricorrente effettività che era quello sul quale maggiormente si appuntavano si appuntano i dubbi della dottrina e viceversa assolutamente effettivo perché il mancato adempimento della decisione in una logica di shame culture conduce alla pubblicità dell'inatempimento attraverso indicazione del nominativo dell'inatempiente tanto sul sito dell'arbitro quanto su due quotidiani a diffusione nazionale voi comprendete bene che in un mercato minimamente concorrenziale qual è quello bancario e creditizio la perdita della reputazione conta e conta molto di più rispetto all'adempiere alla decisione dell'arbitro bancario sicché i casi di inadempimento sono davvero marginali riguardano intermediari sottoposti a procedure concorsuali o cancellati dall'elenco tranne il caso di un intermediario che ha deciso deliberatamente di non osservare decisioni e quindi da questo punto di vista funziona il terzo versante che è quello che sta cominciando a diventare davvero molto critico è il versante della rapidità della tempestività perché dal punto di vista regolamentare i tempi della decisione sono esattamente pari dovrebbero essere esattamente pari a 105 giorni dalla proposizione del ricorso evito di dire perché si pervenga ai 105 giorni accettatela come verità di fede i dati del 2013 fanno constare tempi medi della decisione da parte dei tre collegi pari a 215 giorni insomma assistiamo a una crescita dei ricorsi assistiamo a una crescita dei tempi perché questi collegi questi poveracci insomma per quanto possano alacremente lavorare e produrre 2000 decisioni in più rispetto all'anno precedente insomma non riescono a smaltire tutto la decisione e quindi questo impone un intervento riguardo appunto la struttura e ci penserà Banca d'Italia prima o poi a farlo ma questo è l'unico aspetto critico che in questa circostanza mi preme mi preme sottolineare e perché questo perché probabilmente è questo paese che si muove in una logica distorta nel senso è stata ricordata qualche minuto fa i meccanismi di ADR di Alternative Dispute Resolution o chiamateli come vi pare sono meccanismi non possono che essere meccanismi complementari rispetto alla giustizia ordinaria non possono essere meccanismi sostitutivi della giustizia ordinaria nascono con le leggi degli anni 90 negli Stati Uniti d'America con riguardo alle cosiddette small claims e quello è il loro settore elettivo di appartenenza nel momento in cui viceversa io mi trovo di fronte a una giustizia malata a una giustizia assolutamente in crisi con 5 milioni di procedimenti civili pendenti con i dati OX che ci fanno scivolare sempre più in basso doing business è stato riportato adesso allora l'arbitro bancario per quel che riguarda quel segmento di controversia qua ed effectum non viene visto come meccanismo alternativo complementare ma come unico meccanismo per ottenere giustizia rapida ed effettiva se appunto gli intermediari osservano la decisione dell'arbitro bancario o finanziario indipendentemente dal fatto che essa non sia esecutiva o esecutoria e questo però finisce per essere un paradosso perché per un verso si da atto della qualità delle decisioni tra l'altro esiste anche altro minuto e chiudo esiste anche un collegio di coordinamento proprio per evitare i contrasti tra le decisioni e per assicurare una sorta di nomofiachia rispetto agli orientamenti dell'arbitro bancario finanziario si sono le sezioni unite della Cassazione e sono il collegio di coordinamento quindi questo assicura una qualità di decisioni importanti tant'è che che vengono riprese anche perché c'è una qualità dei membri dei componenti del collegio che sconta l'esistenza di requisiti di professionalità molto molto stringenti che è funzionale rispetto a questo ma è paradossale perché questo che dovrebbe essere un titolo di merito dovrebbe quindi conseguentemente determinare una sorta di diciamo definizione di un organismo di nicchia finisca poi per degenerare e per produrre il risultato alternativo della crescita esponenziale dei ricorsi e forse su questo come su altre tutte le altre problematiche ciò che conta è in questo momento davvero far presto dun rome consulitur saguntum expugnatur grazie grazie mille a questo punto io so che diciamo in elenco ci sono le due due autori la EG e poi la Gcom però io introdurrei prima una variazione di programma e chiamerei Giovanni Ferrari che è responsabile dell'ufficio conciliazione di Trenitalia per sentire un po' anche la voce dell'azienda più volte tirata in ballo diciamo in queste prime ore di dibattito diciamo e poi continuiamo diciamo seguendo un po' il programma ma per avere un po' diciamo di variazione anche sul tema e di risposte alle molte direi riflessioni che sono state fatte e che probabilmente produrranno ulteriore riflessione anche dopo il dibattito Buongiorno a tutti grazie dell'invito al Consumer Forum che consente di dare qualche briciolina insomma di esperienza Trenitalia ha aderito alla conciliazione paritetica qualche anno fa nel 2008 quindi un'esperienza breve con numeri ancora limitati ma credo molto significativa nei contenuti avevo preparato la presentazione ma il tempo è inclemente quindi scorro un po' velocemente alcune slide non tutte le associazioni del CNCU aderiscono alla conciliazione paritetica al nostro protocollo e questo personalmente lo ritengo un aspetto non positivo perché la conciliazione paritetica deve essere uno strumento il più largo possibile nell'interesse della collettività non solo delle aziende in questo momento abbiamo il protocollo è previsto solo per i treni di lunga percorrenza come faceva notare prima la dottoressa non è ancora previsto il trasporto regionale nell'ambito del quale ha aderito al momento la Lombardia la società Trenord però potrebbe essere l'inizio di un percorso mi soffermo un attimo su questa slide perché noi abbiamo adottato il protocollo che rispetta la forma di conciliazione che rispetta il più possibile la volontà del cliente il tavolo di conciliazione sviluppa tutte le tematiche che sono nate dal di servizio e formula nel confronto tra l'esperienza tra la tecnica ferroviaria e l'esperienza dell'associazione dei consumatori sempre in materia di trasporto formula una possibile soluzione che viene rimessa però alla volontà libera del cliente questo ci tengo a dirlo perché si sviluppano molti dibattiti sulla natura transattiva non transattiva negoziale non negoziale che sono molto interessanti accademicamente però io credo che sia necessario ai consumatori dare la percezione della loro partecipazione la loro volontà nella decisione nella scelta si offre una soluzione e il cliente il consumatore è libero poi di aderire o meno senza alcuna forma di coazione prima la dottoressa rappresentava il fallimento della mediazione obbligatoria con la mancata partecipazione del convenuto della parte invitata io credo che questo dovrebbe portare una riflessione proprio sul concetto di obbligatorietà la nostra indole italiana è quella di non essere diciamo molto di non gradire coercizioni e imposizioni quindi se invito qualcuno a un tavolo per discutere per mediare poi pretendere di costringerlo a sedersi con me mi sembra che sia un po' contraddittorio per questo motivo noi preferiamo sempre comunque lasciare libero il cliente nella scelta nella decisione finale il percorso come dicevo è iniziato da pochi anni comunque abbiamo via via ampliato la rete di conciliatori ne abbiamo formati circa un centinaio in questi quattro anni coprendo il territorio nazionale abbiamo cinque sedi che cercano di coprire l'intera rete perché l'Italia è lunga l'incremento delle domande è costante questo significa che lo strumento della conciliazione paritetica ferrovia è gradito soprattutto in relazione alla percentuale di accettazione noi abbiamo un 93% di accettazioni da parte della clientela questo è un dato significativo in relazione soprattutto al valore della controversia noi chiaramente il servizio ferroviario impatta su costi abbastanza limitati quindi anche le soluzioni che vengono proposte non sono soluzioni che ovviamente cambiano la vita di una persona perché parliamo di valori sempre bassi tuttavia le accettazioni sfiorano al 100% questo credo che sia un aspetto molto importante per la qualità della conciliazione per la qualità per l'importanza qualitativa dello strumento questa rappresenta un po' la nostra clientela come distribuzione di clienti che aderiscono alla conciliazione paritetica sinceramente sono rimasto sorpreso anch'io per la distribuzione geografica noi abbiamo conciliazioni paritetiche che vengono domande di conciliazione che provengono da tutte le parti del mondo si potrebbe dire per forza ci sono tanti stranieri che viaggiano sui treni io invece faccio un'altra considerazione c'è un'attenzione molto forte da parte degli stranieri a quello che è lo strumento offerto dal punto di vista della customer che è da un'azienda questo è un elemento che ci fa riflettere molto all'interno dell'azienda e penso possa far riflettere anche il mondo consumeristico in generale i tempi sono molto brevi sono circa 42 giorni e abbiamo avuto in linea con l'apprezzamento da parte della comunità europea anche l'apprezzamento dell'organismo del ferroviario internazionale che ha riconosciuto la considerazione di Trenitalia come una best practice in ambito ferroviario detto questo per qui lascio tutte le informazioni sul funzionamento che trovate sul sito detto questo volevo concludere diciamo ritenendo che siamo allineati come esperienza a quelle che sono le esperienze delle altre aziende che abbiamo visto illustrate prima io trovo un punto di debolezza però nelle varie occasioni di incontro che abbiamo si vede sempre la conciliazione paritetica come lo strumento di soluzione tra azienda e consumatore io credo che questo non sia l'esatta diciamo la stima esatta dell'importanza della conciliazione paritetica è uno strumento che favorisce il dialogo a prescindere cioè io pur essendo ovviamente interessato come azienda vedo l'importanza della comunicazione del dialogo della discussione dal punto di vista sociale ed economico cosa voglio dire abbiamo visto prima che abbiamo poi ce lo ricorda il procuratore generale della Cassazione ogni anno che abbiamo 5 milioni di contenziosi pendenti ogni anno sono 5 milioni 4 8 5 2 eccetera eccetera abbiamo una mole di contenziosi civili spaventoso che credo si possa risolvere solo introducere un cambio culturale del quale può essere che può essere favorito dalla conciliazione paritetica cosa voglio dire purtroppo è mal costume l'andare a litigare quando c'è qualunque problema tutti siamo vittime di problemini con l'assicurazione con il condominio quelli ereditari poi siamo sempre lì a litigare su posizioni arroccate senza disponibilità a dialogare e a litigare senza dialogare io credo che la conciliazione paritetica possa introdurre un concetto molto più ampio a livello sociale del singolo rapporto dello specifico rapporto cliente cliente azienda certo è un problema di comunicazione fin tanto che viene proposta come rimedio tra le parti non è una buona comunicazione io farei appello all'istituzione il ministero del sviluppo economico che in questi anni ha introdotto delle forme di potenziamento proprio sul diffondere il più possibile la cultura non tanto della conciliazione paritetica dell'azienda ma la conciliazione paritetica come veicolo di cultura per favorire il dialogo a prescindere perché con le riforme con i tentativi di riforma dimezzando i termini allungando questo accorciando quell'altro il contenzioso civile non lo risolviamo sempre tenendo presente ovviamente che la conciliazione paritetica è uno strumento di carattere di small claims adatto alle piccole vertenze che non è neanche giusto saturino la magistratura i casi gravi ovviamente li lasciamo nell'ambito giudiziale grazie 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 soprattutto della sintesi un'altra piccola diciamo variazione al programma prima di andare poi ad ascoltare le altre due authority io volevo sentire diciamo anche chi dell'associazione dei consumatori si occupa si è occupato di questo spesso e volentieri dare la parola a Ovidio Marzaioli di Movimento Consumatori perché diciamo per dare un pochino anche di alternanza tra le voci grazie per la possibilità di questo intervento io francamente girerei addirittura il mio intervento come un tentativo di domanda in maniera abbastanza chiara al ministero e in questo caso a un suo eccellente rappresentante come il direttore vecchio di risposta su determinate questioni che dovranno diventare elementi essenziali nel recepimento della direttiva europea parto da un concetto semplicissimo la tutela del consumatore noi stiamo parlando di negoziazione paritetica che è una delle fasi delle tutele mi sembra che in questo momento tutte le direttive europee tutto quello che noi stiamo recependo in questo momento vanno nella direzione sempre maggiore di una tutela di una maggiore robustezza di queste tutele non posso non pensare al decreto legislativo 21 ultimo sul sul recepimento dei diritti dei consumatori nella fase precontrattuale e anche nella fase contrattuale e questa della direttiva europea prossima quella la 11 2013 sarà quella ex post cioè quella che è la fase patologica della tutela del consumo quando il consumatore arriva a discutere di una procedura non particolarmente a suo giudizio non particolarmente messa in fila secondo determinati parametri ebbene io parto da un principio che finora non è stato detto ma lo voglio dare come elemento fondamentale cioè la sussidiarietà della direttiva europea che è un principio fondamentale la comunità europea ci danno degli indirizzi minimi oltre quegli indirizzi tutti gli stati potranno fare assolutamente quello che vogliono delle proprie ADR quindi la negoziazione paritetica riconosciuta all'interno di quella di quella direttiva è un riconoscimento già di per sé della validità dello schema ma questa validità dello schema però ha bisogno di due elementi essenziali primo elemento un recepimento che valga non solo di natura politica perché quell'inserimento all'interno della normativa è un inserimento della direttiva europea molto politico un po' meno giuridico perché giuridicamente determinati elementi fondamentali dell'ADR con le nostre negoziazioni paritetiche dovrebbero avere un po' un adattamento e il secondo pezzo che è probabilmente il pezzo più importante è che le nostre ADR specie la negoziazione paritetica dovrà avvenire attraverso una complementarietà degli strumenti cioè utilizzare lo strumento negoziazione paritetica come un pezzo delle possibili ADR questo è già nasce direttamente nella conciliazione delle telefoniche che chiaramente abbiamo strumenti alternativi ma vicini se io devo andare in secondo grado posso anche avere il primo grado fatto con la conciliazione nel settore energia c'è un maggior problema perché adesso e questo è fondamentale sottolinearlo l'autorità per l'energia ha messo in campo un servizio di conciliazione che è straordinariamente preciso e perfetto e aderente perfettamente all'ADR europea molto aderente allora che significa il discorso mio e questa è poi la domanda a vecchio davvero voglio sentire la sua forza nella risposta noi dobbiamo avere la nostra negoziazione paritetica una best practice è una best practice capace di essere riconosciuta in Europa in qualche modo è l'unica che ha avuto il riconoscimento diretto nella direttiva però la complementarietà e l'elemento dell'uso di questa complementarietà all'interno del sistema ADR italiano deve essere fatto sarà poi il sistema che vogliamo mettere in piedi Praderi Pietro ha uno straordinario modo di capire ciò che voglio dire su questi degli organismi ma è una questione semplicemente di interpretazione ma dobbiamo metterla in quella condizione altrimenti le ADR europee sono un treno che passerà talmente velocemente che noi non saremmo in grado con la nostra negoziazione di andarci sopra grazie io vecchio mi scuserà prenderà nota chiamerei vecchio poi a rispondere alla fine diciamo di questo dibattito perché come dire per intuito penso che non sia l'unica domanda che gli arriverà quindi probabilmente le raccoglierà invece chiamata in causa chiamata in causa è l'AEG l'autorità per l'energia elettrica e il gas nel sistema idrico chiamata in causa ha più di una volta in realtà sia per il sistema idrico per le competenze assunte nel sistema idrico che per diciamo tutta la parte di conciliazione definita dalle associazioni addirittura eccellente quindi chiamo Gabriella Facchetti responsabile dell'unità conciliazioni ad escriverci l'esperienza vi prego solamente a questo punto di molta molta sintesi perché siamo ancora tanti a dover parlare anzi siete tanti a dover parlare buongiorno a tutti grazie dell'invito e grazie anche a questo punto di Ovidio che mi ha fatto l'introduzione e vado quindi direttamente esatto direttamente nel parlare del servizio conciliazione facendo un accenno a quelli che sono gli assetti di tutela che l'autorità ha messo direttamente in campo con il servizio conciliazione vedremo perché con lo sportello per il consumatore quindi con una seconda istanza di un reclamo che sono tutte dirette ma accanto a queste c'è sempre stata attenzione nei confronti di quelle che è stata la conciliazione paritetica fin dal suo nascere nel settore energetico tanto vero che ci sono stati contributi tramite il fondo sanzioni ovviamente con la collaborazione del ministero per la formazione e anche per il contributo al risultato che viene ottenuto tramite la conciliazione anche per il 2014 questo sostegno continuerà ed è vi do la notizia proprio di questi giorni la pubblicazione sulla cassa con guaglio dei bandi che le associazioni tengono sempre monitorate e che a questo punto potranno attivare la formazione specificatamente sarà dedicata a più moduli ma a uno oltre che a coloro che sono sul territorio quindi quelle che sono la prossimità maggiore per il consumatore ci sarà anche un numero di corsi dedicati proprio alla formazione a tutto campo e quindi all'ADR non soltanto quella paritetica ma a tutto ciò che è ad oggi disponibile proprio nella logica di quello che si è detto fino adesso cioè sviluppare una capacità di approcciare una modalità di risoluzione di una controversa che non sia soltanto giudiziale per dare effettività di tutela al cliente e al consumatore vediamo perché e come è nato il servizio conciliazione è un'attuazione la direttiva europea ci aveva dato delle indicazioni il recepimento incarica l'autorità di un trattamento efficace delle procedure di conciliazione questo che cosa ha comportato un'analisi nel secondo semestre 2011 di quello che era a disposizione per il cliente energetico e quindi accanto a questo ci si è resi conto che c'era un'esperienza positivissima che era stata quella delle paritetiche ma che questa non riusciva a coprire tutti quanti perché interessava esclusivamente potevano accedere quei consumatori di quegli operatori che di fatto avevano stipulato questo protocollo e aveva poi anche dei limiti legati a un limite di materia a questo punto c'era tutta una fetta di clienti che non avevano una tutela analoga e da questo è emersa la necessità e quindi la scelta di creare uno strumento nuovo recependo addirittura quelli che erano già gli indirizzi che si stavano maturando a livello europeo e che poi avranno dato origine alla famosa direttiva sulle ADR del 2013 la numero 11 che vedrà il recepimento entro luglio del 2015 da qui l'atto formale un atto formale che ha visto la delineazione con una disciplina di quello che era tutto il processo come doveva svolgersi la procedura ma doveva poi essere realizzata e come previsto dalla legge è stata affidata la realizzazione del progetto ad acquirente unico l'approvazione del progetto è stata a novembre ma nel percorso di allora ma anche adesso è sempre stato affiancato da un gruppo di lavoro a cui partecipano tutti gli stakeholder le associazioni da un lato che rappresentano i consumatori e la piccola media impresa dall'altro lato ci sono gli operatori sia venditori che distributori e poi questo ha creato una sinergia che ha potuto anche raccogliere la positività dell'esperienza delle paritetiche e quindi superare quello che potevano essere quei problemi che si erano vissuti e che le associazioni avevano vissuto sul campo da qui il go live l'approvazione del progetto è il go live che è stato il primo pile quindi tutta la macchina è stata messa dal progetto alla effettiva realizzazione in tempi molto molto brevi la caratteristica fondamentale di questo strumento è come vedete dalla slide ci sono le bandierine europee per dire quelli sono i punti che sono già dentro come diceva e come mi ha detto precedentemente Ovidio a tutta la sala è stata scelta come approccio di natura volontaria quindi chi si siede a questo tavolo ad oggi è un cliente che vi aderisce senza un vingolo di obbligatorietà pur la 481 prevedendolo ma non essendoci ancora stata data l'attuazione al decreto che ne consegue quindi al relativo regolamento e anche l'azienda si siede con una scelta consapevole quindi aderisce se ritiene di partecipare alla procedura è gratuita per le parti ma essendo gratuita sì per le parti ma essendo uno strumento che ha dei costi abbiamo cercato di dare un risalto al concetto di efficienza per cui è alternativa ad altre procedure che raggiungono lo stesso risultato sia che siano in corso sia che vi sia stata già una conclusione è interamente online ma questo interamente online è importantissimo per il semplice fatto che non c'è soltanto l'attivazione ma ci sarà anche l'incontro che è un incontro virtuale e reale perché a questo punto in una stanza io vedrò come consumatore o come cliente il mio venditore o il mio distributore in poche parole darò un viso a un soggetto che mi recapita la bolletta e che di fatto ad oggi sento solito tramite una voce al call center quindi questo aiuta moltissimo perché effettivamente trasporta questa stanza in tutta Italia in poche parole da casa io mi attivo con una piattaforma user friendly quindi molto semplice perché il destinatario è anche il cliente consumatore individuale che possa muoversi da solo e poi vedremo che questo è stato fatto e che quindi riesce da casa sua a trovarsi in questa stanza virtuale col suo operatore alla presenza di un soggetto che lo aiuterà a trovare una composizione cioè il conciliatore che è diciamo il catalizzatore delle due esigenze da un parte del consumatore cliente dall'altra dell'impresa questo conciliatore abbiamo scelto svolgerà un ruolo soltanto facilitativo soltanto nel momento in cui le parti lo ritengono gli possono dare un ruolo ulteriore di fare una proposta però nello stesso tempo le parti saranno comunque libere di aderire a questo proposto o meno la tempistica è fondamentale una tempistica di 90 giorni entro le quali la procedura sicure si spera con un accordo diversamente ognuno è libero di andare per la propria strada e il soggetto diciamo così che può attivare è ad oggi un soggetto che è consumatore ma anche un cliente della piccola media impresa lo può rivolgere per qualsiasi tipo di controversia attinente al suo contratto oppure addirittura in una fase prodromica cioè all'allacciamento e vengono escluse esclusivamente le materie di natura fiscale e tributaria perché hanno una competenza esclusiva per legge abbiamo una presenza anche di un distributore al tavolo qualora fosse necessario ma non dimentichiamoci che nel momento in cui il venditore risponde al cliente nell'ambito di quello che è la regolazione ha la possibilità qualora lo ritenga di chiedere tutte le informazioni al distributore secondo quella che è la nostra regolazione per cui nel momento in cui si siede a quel tavolo le informazioni le ha o ha fatto la scelta di non accogliere perché riteneva di averle è prodromico per l'azione necessariamente il reclamo perché si ritiene che la composizione debba essere priva di tutto fra le parti contrattuali la struttura è una struttura molto molto snella come potete vedere c'è un responsabile che sovraintende e dirige tutto il processo dall'inizio alla fine si coordina con i conciliatori che sono professionisti esterni proprio perché il ruolo che abbiamo raccolto in questo conciliatore è non soltanto di mediazione ma anche di specialista della materia più che altro per comprendere qual è la problematica che è davanti non deve decidere ma deve capire bene quali sono i punti nei quali può inserirsi per riuscire a far comporre quello che altrimenti sarebbe un contenzioso e quindi riavvicinare le parti proprio per dare queste due caratteristiche fondamentali abbiamo fatto una convenzione con le Camere di Commercio di Milano e di Roma che ci hanno fornito e ci hanno selezionato quindi i mediatori perché abbiamo ritenuto che come specialisti e come expertise fosse quella sul campo che dava sotto questo punto di vista la migliore garanzia e dall'altro lato abbiamo con l'aiuto dato questa formazione in materia energetica ai conciliatori che si siano al tavolo sono i nominativi sono presenti sul sito c'è l'elenco e quindi chiunque può andare a vedere nella logica di una massima trasparenza come è tutta la procedura dall'inizio alla fine e vediamo i numeri che abbiamo avuto nel primo anno abbiamo deciso di partire diciamo così on the job senza fare sperimentazione nel senso che il progetto è di novembre al primo primo eravamo operativi quindi siamo andati gradatamente facendo poca pubblicizzazione proprio perché volevamo testare sul campo come erano i ritorni dal secondo semestre abbiamo avuto una crescita che è di più del 150% come vedete e questo trend sta continuando anche adesso chi è venuto ecco chi ha attivato quali sono stati le tipologie di soggetti che sono venuti a questo tavolo e che hanno attivato una parte è stato un cliente da solo quello più smart che smanettando nella rete ci ha trovato diciamo non avendo fatto nessuna campagna al riguardo una quota di parte sono soggetti che hanno delegato a persone di fiducia che possono essere sia parenti perché non ritenevano di gestirci la procedura online da soli sia magari anche professionisti sia avvocati che commercialisti ma anche una buona contributo è arrivato anche dall'associazione dei consumatori che ha messo subito in campo e quindi ha sperimentato questo nuovo strumento proprio nella logica di risolvere i problemi e proprio per agevolare questo diciamo così per riconoscere questo ruolo che le associazioni fanno di prossimità con il consumatore quindi di veicolare di spiegare anche e di indirizzare il cliente verso quello che è la soluzione migliore per trovare una composizione al suo problema e quindi risolverlo è stato istituito un PAC un contributo che agevola le associazioni riconoscendo nel momento in cui dà il sostegno al cliente quindi lo aiuta a inserire la pratica oppure lo rappresenta tutti gli effetti nella controversia con un esito positivo come ritorno di questo impegno altrettanto con la piccola e media impresa è in corso un protocollo per agevolare questa formazione questo sviluppo sul territorio per i loro associati non dobbiamo mi sono diciamo così non dobbiamo dimenticare che la procedura necessita perché il soggetto si sta al tavolo di una piena legittimazione proprio perché nel momento in cui le parti si trovano a confrontarsi per trovare un accordo il soggetto che deve essere su quel tavolo deve essere un soggetto che è in grado di dare il suo consenso o negarlo e questo è necessario per poter garantire assolutamente i tempi quindi la persona che è direttamente presente avrà tali poteri diversamente se lo delega deve dare una delega a transigere conciliare in modo tale che a questo punto nel momento in cui scocca la scintilla questa possa essere diciamo quisicolta e l'accordo raggiunto i soggetti maggiori che stanno al tavolo sono i clienti domestici rispetto ai non domestici e analogamente il settore più interessato è quello ad oggi elettrico gli argomenti sono ovviamente quello che la fa di padrone sempre la fatturazione e il valore proprio nella logica degli interventi che mi hanno preceduti legati al discorso che questa tipologia risolve molto quelle problematiche definite small claim che non troverebbero il più delle volte una soluzione e quindi vedrebbero il cliente consumatore arrendersi davanti a un problema e quindi non far valere il suo diritto è all'intorno rispetto a quelli che hanno dichiarato perché è un valore autodichiarato che non supera i 1000 euro non dimentichiamoci però che abbiamo avuto anche situazioni molto più importanti che hanno raggiunto anche i 200.000 euro la maggior parte la procedura è una procedura molto semplice la piattaforma come abbiamo detto è user friend e questo lo dimostra il fatto che la maggior parte accede quindi il 76% è ammissibile cioè supera il vaglio che viene fatto ovviamente tutto a sistema l'adesione è un atteggiamento che diciamo così si è diversificato rispetto agli operatori in considerazione anche del fatto che è uno strumento nuovo abbiamo avuto operatori che sono stati alla finestra ma diciamo sono veramente residuali e l'atteggiamento sta cambiando anche nei confronti di questi pochissimi alcuni operatori che hanno fatto la scelta di aderire volta per volta cioè di guardare qual è la problematica e se c'è una possibilità di soluzioni di sedersi e ci sono stati anche operatori virtuosi che hanno deciso di iscriversi a un elenco che abbiamo istituito e indicando il servizio si sono impegnati a sedersi sempre per due anni da quando si sono iscritti dando quindi un'offerta al proprio cliente soprattutto in un mercato libero di un confronto in cui l'operatore sarà sempre presente questo ovviamente lascia poi la libertà delle parti di trovare una soluzione oppure no qualora ci siano i presupposti oppure questi non ci siano l'adesione ha rappresentato un elemento importante se confrontato anche a quello che sono i dati pubblicati dal Ministero di Grazia e di Giustizia che ha visto nell'ambito di quello che è la mediazione civile quindi nell'anno del 2013 con una parte anche di obbligatorietà che si attesta come adesione al 32% quindi effettivamente su uno strumento volontario che è appena partito e che quindi ha tutto quello che sconta un pochino questo elemento di novità l'adesione è stato un risultato che ci ha lasciato sicuramente contenti e è un dato su cui sicuramente si potrà lavorare ancora e lavoreremo dall'altro lato l'accordo del soggetto che si siedono e quindi la volontarietà delle parti di trovare un accordo si raggiunge nel momento in cui ci si trova intorno a questo tavolo virtuale nell'88% dei casi gli accordi sono più vari ma quello che è importante rispetto diciamo così a quello che è il contenuto ordinario della parentetica e che quindi l'altro strumento che lavora sullo stesso tavolo dell'energia è il fatto che vi è un ristoro anche dal punto di vista risarcitorio per il cliente e il consumatore e i tempi di conclusione di quelli che sono stati gli accordi fino ad oggi sono stati la media è stata 62 giorni ma quello più veloce è stato fatto in 14 giorni l'altro aspetto che ci è piaciuto che ho avvicolato anche quando ho avuto occasione l'altra volta è il ritorno che abbiamo avuto dai consumatori dai clienti che l'hanno utilizzato nella fattispecie abbiamo avuto anche un soggetto disabile che ci ha detto grazie perché io a questo punto ho potuto stare a un tavolo da casa mia cosa che altrimenti non avrei potuto fare questo vuol dire che con un semplice click si può raggiungere il proprio operatore sempre che questo aderisca e a maggior ragione quelli che hanno dato questa disponibilità è un valore ancora maggiore per un cliente che trova quindi a questo punto un confronto continuo e puoi farlo da casa liberamente e da solo con l'assistenza delle associazioni o di una persona che tu ritieni di fiducia qualora non te la senti noi abbiamo istituito una pagina in cui parliamo del servizio ma parliamo anche di tutta la tipologia di conciliazione in modo tale che il cliente possa a questo punto sapere quello che ha di fronte e dove ritenere e dove può rivolgersi per risolvere al meglio quella che è la problematica la strumentazione è velocissima nel senso è molto semplice ha costi irrisori perché in casa chi già la utilizza ha una cuffia o un collegamento con internet e conseguentemente non ha un dispendio economico dall'altro lato questo è quello che molti di voi fortunatamente non dovranno mai vederlo perché non avranno mai una problematica con il proprio operatore è la famosa stanza virtuale quindi l'immagine che uno vede nel momento in cui giunge a trattare col proprio operatore la sua problematica io vi ringrazio e vi saluto buongiorno grazie grazie mille dall'energia al gas insomma alle telecomunicazioni Federico Flaviano è direttore di direzione tutela dei consumatori dell'AG dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni quindi siamo diciamo ancora in un tema molto caldo chiedo anche a Flaviano di stare in dieci minuti che è il massimo che adesso possiamo garantire per intervenire tutti grazie grazie per l'invito nell'incontro odierno nel convegno odierno il tema fondamentale è quello di idee per la conciliazione paritetica per le associazioni consumatori e quindi come valorizzare questa esperienza con proposte e soluzioni allora storicamente nel 2007 noi abbiamo riconosciuto la conciliazione paritetica nel settore delle comunicazioni elettroniche come strumento per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione e quindi questo riconoscimento però significa che non è necessario dover ripetere poi il tentativo obbligatorio di conciliazione dopo aver spedito quello presso le camere di conciliazione paritetica sarebbe assurdo insomma pretendere un doppio passaggio e tuttavia questo riconoscimento è sottoposto ad alcune verifiche cioè ci sono alcuni criteri di contorno che consentono poi di ottenere questo riconoscimento intanto che vi sia un numero di almeno due terzi delle associazioni consumatori del CNCU che abbiano aderito al protocollo di intesa e poi siano rispettati i requisiti delle raccomandazioni europee in materia e infine che ci sia poi anche una reportistica per quanto riguarda il successo di queste procedure abbiamo avuto un caso in cui un'associazione consumatoria poi ha denunciato ha cominciato a denunciare ha reclamato per una particolare conciliazione paritetica che è stata poi autosospesa dall'operatore e poi è stata ripresa successivamente nel tempo quindi con un meccanismo semplice di controllo è possibile come devo dire andare anche a introdurre dei meccanismi di verifica interna stesso tra associazioni e operatori quindi la constituzione paritetica in qualche modo con veramente pochissimi punti di controllo esterno è qualcosa che non solo funziona per l'efficacia e la percentuale di successo ma funziona anche da un punto di vista di linearità della procedura ed è blindata anche rispetto a derive di qualsiasi genere quindi questo potrebbe essere uno spunto per quanto riguarda il recepimento della direttiva comunitaria cioè come riuscire a compatibilizzare nel recepimento della direttiva comunitaria sulle ADR la paritetica rispetto a certi requisiti che vengono previsti nella direttiva comunitaria e quindi passo adesso a descrivere rapidissimamente le nostre procedure nel nostro settore intanto parliamo di conciliazioni il primo grado della procedura ci sono tre strade principali quindi la competizione tra le tre strade possibili comitati regionali di comunicazione camere di commercio e commissioni paritetiche quindi sono tre strade ognuna di queste fa concorrenza all'altra e entra in soccorso dell'altra quando una di queste tre dovesse avere dei problemi anche per esempio nei tempi che non sono chiaramente costanti ma dipendono anche dal carico dipende anche dalla disponibilità di conciliatori su territorio salto diciamo le novità introdotte recentemente con una modifica della procedura e vado direttamente ai numeri per quanto riguarda le tre componenti vediamo che il totale nell'anno passato ha raggiunto e superato le 80.000 unità la parte preponderante sono i corecom però ha un ruolo molto rilevante anche la conciliazione paritetica con l'Union Camere come diceva la collega Diella abbiamo raggiunto recentemente abbiamo rinnovato anche l'accordo che consente dei risparmi anche quando si sceglie quella strada che comunque insieme con la paritetica è una di quelle più veloci ma c'è il problema poi della presenza del convenuto che non c'ha la paritetica quindi la Camera di Commercio c'è il problema e che potrebbero avere anche tutti come dire la pletora di organismi di conciliazione accreditati già oggi cioè il fatto che non è detto che poi il convenuto venga se quell'organismo di conciliazione è particolarmente scomodo piccolo costoso e quindi attenzione a non andare poi a modificare sistemi che funzionano quindi quando un sistema funziona e anche attraverso la presenza del convenuto per il fatto che sono poche le strade consente di raggiungere percentuali così elevate certamente questo sistema non deve essere messo a rischio dalla moltiplicazione dei panni dei pesci e del numero delle Camere di Concezione Pariterica che devono essere riconosciute perché si rischierebbe poi di avere una dispersione eccessiva e quindi per quanto riguarda le percentuali vediamo che la Pariterica è sicuramente quella che garantisce le percentuali di successo più elevate anche se anche i Corecom raggiungono percentuali altissime e così anche le gambe di commercio ma la Pariterica è spettacolare da questo punto di vista vediamo l'evoluzione certamente c'è un trend sempre in crescita siamo arrivati a 71.000 nei Corecom ma per quanto riguarda la Pariterica invece le percentuali di successo sono altissime trascuro per un attimo le improcedibili prendendo quelle procedibili le percentuali passiamo dal 3% di concluse negativamente di Tele2 che è quella più performante da questo punto di vista salendo poi mano a mano attraverso Telecom e Wind con il 4% io non vedo bene ma la dà memoria Vodafone con il 10% se vedo bene per salire poi a Poste Immobile con il 14% e H3G con il 17% attenzione a Poste Immobile stiamo parlando di numeri molto piccoli infatti da questo grafico si vede che a Poste Immobile ha dei numeri assoluti molto bassi quindi qui il 14% non è significativo mentre per tutti gli altri queste percentuali sono estremamente significative non c'è un atteggiamento uguale da parte di tutti gli operatori nei confronti delle conciliazioni paritetiche probabilmente anche perché gli utenti non sono tutti uguali a volte gli utenti di alcuni operatori sono più utanti di altri cioè che stanno usufruire meglio in qualche modo delle procedure sono più smart più e quindi c'è anche un fenomeno a volte di utenti che utilizzano molto queste procedure un abuso di queste procedure che sono poi fondamentalmente gratuite quindi bisogna stare attenti anche a questo mi preoccuperei quindi alla fine di questa carrellata di numeri più che altro di cosa può fare il Consumer Forum in proposito ovvero sono stati analizzati per esempio i dati relativi alle improcedibilità perché ci sono tante improcedibilità nel nostro settore abbiamo visto 900 rotte improcedibilità su un totale di circa 18.000 se ricordo bene quindi erano 13.000 quindi è una percentuale abbastanza bassa in altri settori l'abito bancario e finanziario mi pare che l'abbiamo visto una percentuale molto più alta allora che significa improcedibilità perché c'è un'improcedibilità un'improcedibilità può significare probabilmente sostanzialmente il fatto che ci sia una distanza che riguarda un settore adiacente ma non proprio coincidente oppure che ci sia un'istanza che coinvolge più soggetti allora la paritetica è fatta per il rapporto uno ad uno allora la prima idea potrebbe essere quella di dire ma perché non c'è un accordo tra magari multiplo tra associazioni e non una ma più aziende per risolvere in maniera come devo dire anche le problematiche multiple che riguardano più operatori cosa che per esempio la procedura nostra presso i corecom risolve e quindi questo è un altro spunto che lascio al consumo e forme l'altra cosa che direi è ma che nessuno ha mai analizzato cosa fanno poi nella realtà gli utenti tra reclami procedure di conciliazione settoriali dove c'è l'obbligatorietà e dove non c'è l'obbligatorietà la differenza tra questi due casi e successivamente come va a finire la storia quando non si raggiunge l'accordo transattivo che chiude in maniera tombata controversia ma vanno poi dal giudice di pace o dal giudice ordinario successivamente e quindi qual è il carico che deriva da questi insuccessi delle parite etiche e di tutti gli altri tipi di conciliazione lì dove non c'è un'obbligatorietà e lì dove non c'è soprattutto un secondo tentativo di conciliazione o comunque una procedura che definisca amministrativamente la controversia cosa che c'è nel nostro settore quindi si potrebbe in questo modo pesare anche l'opportunità di introdurre una seconda fase di definizione amministrativa dopo la conciliazione o dopo la mediazione non aggiudicativa per quanto riguarda una serie di settori questi sono gli spunti che mi sento di proporre oggi grazie 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 ora darei parola a Sergio Veroli e poi a Pietro Giordano per diciamo un un giro molto rapido di interventi grazie della parola due considerazioni una sul rapporto associazioni conciliazioni autoridi e l'altra tutto dedicato alle ferrovie che oggi sono qua in massa vedo e quindi è un'occasione da non perdere il primo noi non siamo le associazioni non possono essere in concorrenza con le autoridi sulla conciliazione possono solo essere liete che ci sia una conciliazione che funziona anche nelle autoridi non c'è dubbio si tratta però di ragionare su come trovare delle forme di complementarietà questo è il problema noi vogliamo che funzionino tutti i canali di conciliazione si tratta pure di vedere come è possibile avere delle sinergie anche vedendo dei dati trovo singolare che una conciliazione dell'energia fatta dalle associazioni ci vogliono 5-6 mesi fatta da l'autorità ci vogliono 20 giorni c'è qualcosa su cui riflettere ragionare torno a dire non come concorrenti ma come modo per trovare un modo sempre migliore per trovare le soluzioni ci ho detto ormai le autoridi che si occupano di conciliazioni sono 4-5 ha cominciato l'Agicam poi la Banca d'Italia nel 2005 l'autorità per energia ora anche la nuova autoridi in fieri e cioè i trasporti avrà un compito anche di seconda istanza per i reclami qual è il problema il problema noi ci aspettiamo che le autoridi che conoscono dei problemi che non vanno anche direttamente ed è un fatto positivo poi facciano a monte degli interventi per risolvere i problemi questo è il discorso di fondo da fare con le autoridi va bene quelli che fanno che arrivano a fare una conciliazione sono sempre un'estrema minoranza rispetto al numero degli utenti quando le autoridi la stessa Banca d'Italia parlava del 70% delle soluzioni da una parte è un aspetto positivo ma dall'altro si tratta di capire quando e come si interviene a monte per evitare che certi problemi si ripetano va bene questo è un aspetto importante noi ci aspettiamo dall'autoridi che intervengano a monte che intervengano in un modo forte per risolvere i problemi considerando che adesso li conoscono direttamente ecco collaborazione e una maggiore incisività ferrovie dal 21 maggio scorso è in vigore un decreto che attua finalmente con 5 anni di ritardo il regolamento europeo 1371 sul trasporto ferroviario l'Italia e con 5 anni di ritardo attua questo regolamento perché non aveva istituito l'autority che dovesse combinare le sanzioni la commissione ha deferito l'Italia alla corte di giustizia e ci aspettiamo una bella multa per questa cosa il regolamento doveva entrare in vigore nel 2009 ora questo regolamento amplia sia i settori di intervento amplia i diritti dei consumatori a tutti i livelli va bene sia delle informazioni l'accesso dei disabili la biglietteria tutte cose che oggi non esistevano e amplia anche la platea a cui si rivolge sono coinvolte per la prima volta il trasporto pendolare va bene l'attuale il nostro protocollo riguarda solo la lunga percorrenza allora qual è la questione c'è bisogno di aggiornare di cambiare completamente il protocollo di conciliazione che noi abbiamo regolato fra di noi ampliarlo a livello regionale attuare questo decreto e attuare e cambiare anche il sistema delle carte dei servizi così come ci sono dei diritti che non vengono previsti quindi c'è la esigenza di modificare tutto il settore del protocollo delle ferrovie aggiornandolo alla nuova legislazione l'ultimo messaggio alle aziende noi siamo qua e difendiamo le conciliazioni in Italia e in Europa però dovete anche essere voi aziende propositive nell'aggiornare e nel difendere i diritti dei consumatori sennò è evidente che c'è una simmetria nel modo con cui difendiamo i cittadini grazie grazie chiamerei Pietro Giordano presidente di Consum qui alla sua relazione e poi la parola andrà a Monica Placi di Telecom Italia e a dottor Gianfrancesco Vecchio per poi eventualmente se c'è del tempo aprire le domande grazie grazie dopo la relazione fuori programma di Veroli che è diventata centrale io non vorrei apparire con guastafeste come al solito ma dai dati che emergono a mio avviso se continua così la conciliazione muore paritetica questa è una conciliazione non a caso i dati stessi dicono che è una conciliazione che si concentra soprattutto non a caso nelle telefoniche poi si possono fare tutti gli sforzi può fare tutti gli sforzi la e che anzi nelle telefoniche e nel corecom i dati dicono questo tutte le altre sono conciliazioni diciamo che dal punto di vista quantitativo non sono significative se teniamo presente qual è la mole di reclami che ogni azienda ha perché qua parliamo di qualche migliaio la mole di reclami delle aziende che abbiamo qua dentro potremmo parlare di qualche centinaia di migliaia di reclami che o si infrangono nell'energia nel muro di gomma dello sportello del consumatore o si infrangono direttamente negli uffici delle aziende c'è un problema che la stessa mole di conciliazioni che presenti nelle telefoniche andrà sta e andrà sempre di più ridimensionandosi fortemente perché con l'innesto delle flat è chiaro che i contenziosi che furono come dire la punta di diamante della conciliazione paritetica progressivamente andranno come dire a scemare per usare un eufemismo se poi si aggiunge il fatto che noi non conciliamo pur essendoci una citazione nel codice del consumo tutti i contenziosi delle micro imprese e qui col ministero dovremmo un attimino anche rivedere questa situazione se aggiungiamo questo è chiaro che come associazione dei consumatori una riflessione profonda la dovremmo fare ognuno deve fare il suo ruolo io parto sempre dal principio che i consumatori sono consumatori per noi e clienti per le aziende il problema che dobbiamo mettere al centro noi la persona e quindi il consumatore e le aziende dovrebbero mettere un po' più al centro il cliente che è sempre la ricchezza infinita che la vera ricchezza che le aziende hanno se non si comprende questo lo scatto non si fa c'è anche e qui non sono d'accordo con il mio amico Veroli e con qualche relazione ognuno deve fare la sua parte le autori devono fare la sua parte la loro parte qui stanno diventando tutti associazioni di consumatori solo 24 ore è diventata l'associazione di consumatori le autoriti diventano l'associazione di consumatori le aziende spesso diventano l'associazione di consumatori ognuno deve fare il suo proprio ruolo io sono un uomo che ama profondamente la sussidiarietà si può essere d'accordo o non essere d'accordo lo Stato faccia le sue parti di controllo di verifiche le parti sociali in questo caso aziende e associazioni di consumatori facciano il loro ruolo perché probabilmente conosciamo molto meglio noi i problemi di quanto lo può conoscere lo Stato anni fa quando proposi che le aziende dovevano pagare la conciliazione scandalizzai Mezzomondo oggi grazie a quella posizione abbiamo alleggerito i costi della pubblica amministrazione e non abbiamo creato nulla di scandaloso anzi proprio il fondo che si è creato al ministero ha creato a mio avviso una buona pratica quindi non è che tutto quello che è pubblico è santo e venerabile come dimostrano le cronache e tutto ciò che è privato è il diavolo o quasi c'è necessità a mio avviso di una profonda riflessione e c'è soprattutto necessità di una cosa fondamentale che è quella che è il motivo per cui ancora il numero delle conciliazioni nelle telefoniche si fanno che è l'obbligatorietà se non si innesta il meccanismo dell'obbligatorietà in nome di quei principi che anche qua sono stati detti i tribunali ora non faccio la cantilena perché sono vent'anni che studiamo sta musica però è solo una musica che non riesce a diventare una sinfonia o si allenta il carico della giustizia civile e si rende obbligatoria la conciliazione sulle small claims certo se ho un contenzioso non mi ricordo chi ha detto 80.000 una cosa è chiaro ma sulle small claims cioè di quelli che per 100 euro se vanno al giudice di pace devono pagare 33 euro se vanno da un'altra parte le conosciamo dove vanno devono pagare per potere compresa la mediazione perché il motivo per cui fallisce la mediazione è anche un problema di costi sulle small claims e di fatti e di fatti e di fatti e di fatti è al momento in cui i costi non quelli la della mediazione ma i costi indotti che ti porti l'avvocato perché la lobby degli avvocati ha sotterrato la mediazione ti devi obbligatoriamente portare l'avvocato e siccome l'avvocato non lavora come lavoriamo noi spesso per due lire e ci dicono pure che pigliamo i soldi dalle aziende quindi è il paradosso dei paradossi proprio il massimo della vita però per pubblicità o avvocati si spendono questo e quell'altro e quell'altro ancora ecco perché è fallita la mediazione allora o si rende obbligatoria per quattro anni come nella mediazione non lo so la conciliazione sulle small claims oppure cari colleghi e cari colleghe la conciliazione per le motivazioni di cui sopra è chiaro che resisterà ancora qualche anno ma molto probabilmente è destinata a morire a mio avviso con grande gioia di quelle aziende che non hanno ancora compreso che questo è uno strumento per quello che dicevo prima di avere un rapporto col cliente che è un rapporto di servizio e non soltanto un rapporto economico o riusciamo a immaginare questo e lavorare tutti insieme senza creare questi steccati che sempre di più si creano almeno su queste cose almeno su queste cose o saremo assisteremo all'evoluzione anzi all'involuzione e chiudo di un sistema che è garantito a chi ha meno e chi è in una situazione di forza e difficoltà perché da noi non è che viene quello che ha la piscina riscaldata e si arrabbia con l'Enel tanto per capirci perché deve pagare 20.000 euro poi può venire pure quello ma il 99,9% è gente che 100 euro 50 euro non sono indifferenti sul reddito familiare quindi è un fatto anche sociale di responsabilità sociale che tutti dovremmo avere ed è un fatto perché le aziende non sono la Caritas la motivazione vostra deve essere quella di conservare il cliente che ripeto è l'unica ricchezza vera che avete nel portafoglio grazie 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 a Pietro Giordano un attimo solo ho ancora per obbligo di tempo devo far parlare Monica Placidi fallimento della mediazione penso che chiedo scusa Monica Placidi ma veramente un minuto penso che sia presto comunque per parlare di fallimento della mediazione penso che i 200.000 casi gestiti comunque dal punto di vista dell'alleggerimento delle aule dei tribunali un'incidenza comunque l'hanno data considerando che gli accordi comunque sono stati il 50% voglio dire poi sono d'accordo gli avvocati e forse anche i costi hanno inciso su questo diciamo il terzo in qualche modo ha svolto il suo ruolo scusate devo dare parola a Monica Placidi è evidente che Pietro Giordano si riferiva alle small claims alle piccole dove ovviamente il ricorso ad un avvocato che è il primo collega in Italia che ha tirato fuori allora la parola Monica Placidi a cui chiedo ovviamente ancora sintesi per poi dare la parola finale a Gianfrancesco Vecchio buongiorno a tutti ringrazio per l'opportunità perché per me parlare della conciliazione dell'esperienza in Telecom Italia è sempre un momento di grande passione gioia diciamo che dopo l'intervento di Pietro Giordano che ha dato una visione magari non troppo funesta io lo ritengo diciamo penso che i servizi nel mondo della telecomunicazione abbiano un livello di sviluppo tecnologico e di avanzamento che difficilmente potremo assistere a un venir meno della conciliazione io ho sentito tutti gli interventi tutti interessanti e variegati penso di scorrere di dare dei dati e di scorrere questi vent'anni che Telecom Italia insieme alle associazioni ha portato avanti e ha voluto fortemente e continuativamente rappresentare come un momento di grande esperienza e di professionalità proprio perché il cliente per Telecom Italia è al centro e lo è sempre stato anche nei momenti in cui forse Telecom Italia aveva avuto nei confronti dei clienti un approccio molto difficile e di sfrido la conciliazione con le associazioni è nata nel 91 le altri momenti di svolta sono stati sicuramente il 2004 ricordato da dottoressa Boselli e che ha coinciso con l'introduzione nel mondo del mobile della conciliazione online successivamente un altro momento di svolta per Telecom Italia è stato il 2009 2009 in cui c'è stato l'accordo sicuramente con le Camere di commercio ma è stato il momento in cui è stato creato il cosiddetto sportello unico perché erano nati i Corecom l'autorità ci chiamava nelle fasi di definizione per la procedura che ha e noi ci siamo trovati davanti nel 2009 a tante conciliazioni paritetiche con la commissione con la collaborazione forte delle associazioni che avevano una percentuale di soddisfazione per il cliente pari al 95% dei casi con tempi di risoluzione attestati intorno ai 45 giorni dall'altra parte c'erano i Corecom che erano i nostri interlocutori di riferimento perché diciamo erano la rappresentatività sul territorio dell'autorità stessa e dall'analisi fatta delle autorità venne fuori che Telecom Italia aveva su queste procedure una percentuale di conciliabilità non credo di sbagliare in genere Flaviano che era attestata intorno al 50% avendo creato sui Corecom un backlog enorme c'erano circa 40.000 pratiche giacenti di conciliazione di clienti soprattutto consumer che avevano che avevano mancata soddisfazione a quel punto Telecom Italia ha fatto una riflessione e ha visto qual era diciamo la differenza la differenza era l'approccio in conciliazione si aveva modo proprio per la formazione congiunta che si fa con i conciliatori con il professor Cagliano e con le associazioni stesse attraverso i seminari si aveva un approccio anche all'attenzione psicologica al momento di confronto e soprattutto venivano gestite internamente dai colleghi del customer care che erano colleghi che conoscevano il cliente ne conoscevano le esigenze ne conoscevano i problemi dall'altra parte c'erano le attività legali cioè la conciliazione era all'interno della struttura legale con un approccio tipicamente legale codici alla mano nel 2009 Telecom Italia siccome c'erano delle differenze enormi nel livello di soddisfazione finale ha deciso di riportare tutto in casa quindi è tolto dalla fase conciliativa creando questo che noi chiamiamo sportello unico una complementarità degli strumenti di conciliazione che vanno dalla paritetica che rimane per Telecom Italia quella di riferimento perché ovviamente il cuore è lì da di vent'anni insieme ma l'approccio della conciliazione paritetica è stato portato nelle stesse procedure presso i Corecom e nelle stesse procedure presso le gambe di commercio do dei dati al 2011 della paritetica oltre 100.000 domande di conciliazione svolte oltre il 98% di conciliazioni positive e nei 45 giorni medi di tempo livello di formazione più di 1500 addetti di conciliazione formati insieme alle associazioni lunedì parte il nuovo seminario di conciliazione con Consumer Forum e con l'esperienza di tutti quanti si sta andando avanti perché Telecom Italia ritiene che sia un momento di assoluta come posso dire beneficio per il cliente perché deve essere sempre al centro ma anche per l'azienda perché dal ritorno che viene dalla conciliazione che non è il semplice accordo c'è un'attività di rivisitazione dei processi interni delle modalità di gestione e di commercializzazione che ci permette di sanare quelli che possono essere gli sfridi che sono sorti sul caso specifico aggiungo a livello generale come dati del 2013 sullo sportello unico che nel 2013 noi abbiamo trattato oltre 25.000 domande di conciliazione di queste più di 6.000 erano paritetiche una grossa componente c'è sul Corecom oltre 17.000 e ce ne sono circa 1.300 sulle Camere di Commercio dato di conciliazione media oltre l'87% tempi sono quelli della delibera dell'autorità perché comunque la conciliazione nelle sue forme complementari in cui sceglie e quindi torno a quello che diceva prima il collega del fatto che ci fosse una partecipazione attiva del cliente che sceglie qual è lo strumento abbiamo quindi una grossa percentuale di conciliazione che va anche su un settore che nel 2011 noi non ci aspettavamo intervenisse nel senso che presso i Corecom oggi abbiamo e trattiamo anche le conciliazioni del target più elevato della clientela questo a dimostrazione che attraverso strumenti che rispondono alla stessa logica e alla stessa approccio di garanzia sia lato azienda sia lato consumatore si riesce comunque a dare soddisfazione finale al cliente sicuramente possono essere fatti interventi migliorativi diciamo il Parlamento europeo ha riconosciuto la best practice su oltre 750 modelli mappati a livello europeo di conciliazione e ha riconosciuto la paritetica sicuramente possono essere apportati miglioramenti per renderla più fluida più flessibile ogni anno c'è un confronto costante con le associazioni con l'autorità però è uno strumento che dai dati è efficace Telecom Italia continua a investirci e ci investirà perché come dicevo prima i servizi cambiano probabilmente esisteranno i flat però ci sono altre come posso dire altre forme di complicazione per il cliente che forse noi non riusciremo a gestire bene nella fase di avvio del contatto diciamo in fase di precontrattuale o di gestione successiva quindi è uno strumento che assolutamente dobbiamo continuare a curare a migliorare a dare informativa proprio perché sia sempre più conosciuto e apprezzato dai clienti grazie chiamo Gianfrancesco Vecchio sul palco direi che sì è una facile profezia il fatto che in qualche modo anche con le tariffe flat ci sarà bisogno come dire di conciliazione anche in futuro nel senso che a prescindere i problemi ce ne saranno comunque bene l'ora è abbastanza avanzata quindi cerco di dire il meno possibile e nella maniera più sintetica possibile quindi risparmio i ringraziamenti rituali anche se doverosi a Consumer Forum che ci dà una bella occasione ringrazio anche del fatto di parlare in conclusione perché mi ha dato l'occasione di sentire tutto il dibattito non perché pretendo di concludere che questo non credo sia un dibattito da concludere da parte del Ministero e soprattutto e non credo neppure che il Ministero possa e debba dare risposte deve nella logica che si diceva prima ciascuno deve fare la sua parte il suo ruolo le autorità le amministrazioni centrali dello Stato le associazioni dei consumatori le aziende certamente può dire il suo punto di vista più che concludere e poi gestirlo nei ruoli e continuare ad ascoltare le parti per definire i punti di vista comincio col dire un discorso di fondo che in parte risponde anche a quella battuta sulla sussidiarietà e sulla richiesta del vedere gli strumenti anche qua risparmio discorsi di quadro l'abbiamo fatti più volte quindi l'importanza delle procedure alternative di risoluzione delle consortoversie il ruolo che questo ha in un paese che ha una situazione della giustizia così critica il vantaggio che dà alle imprese all'ambiente per l'insediamento delle imprese il vantaggio che dà ai consumatori diamo tutto per scontato questo che è un patrimonio comune nei sistemi alternativi il ministerio ha puntato molto storicamente sulle conciliazioni paritetiche questo non significa che noi li consideriamo l'unico strumento è chiaro che noi abbiamo una visione in cui gli strumenti diciamo sono un ventaglio di soluzioni che vanno il più possibile integrati forse neppure messi in concorrenza fra di loro bisogna pure evitare troppe sovrapposizioni nel senso devono essere un ventaglio di opportunità offerte al consumatore e alle imprese e possibilmente non un ventaglio confuso in cui alla fine il consumatore non sappia neppure scegliere ma in cui naturalmente vada sull'uno o sull'altro strumento appunto a secondo delle caratteristiche della dimensione delle controversie proprio conoscendone un po' meglio anche lì bisogna fare informazione le caratteristiche di costo di tempo di qualità di impegno e di potenziali risultati abbiamo sempre messo l'accento comunque sulle conciliazioni parichettiche ripeto sulle altre se ne è parlato di alcune anche lì non ritorno quella dell'arbitro bancario e finanziario è evidentemente un modello importante anche perché lì si è riuscita a mettere in piedi una macchina che non ha costi voglio dire che ha risultati importanti e brillanti e non ha costi siamo attenti anche a quelle cose e siamo attenti soprattutto che in tutte queste realtà che sia il modello adesso che ha messo in piedi l'autorità dell'energia attraverso l'acquirente unico di queste conciliazioni istituzionali che in tutte queste cose ci sia un ruolo forte delle associazioni dei consumatori questo lo riteniamo importante al di là del ruolo che le associazioni hanno nella gestione poi di queste procedure negoziali che sono le conciliazioni paritetiche su ognuna di queste cose abbiamo le nostre cose da dire più volte più come CNCU che come Ministero abbiamo per esempio segnalato che nell'equilibrio dell'arbitro bancario finanziario forse l'accento dell'indipendenza riguardo al pezzo in cui della rappresentanza delle associazioni è un accento forse eccessivo se guardate anche la direttiva comunitaria nuova ogni volta che si parla di indipendenza è molto stressata lato impresa non lato altri soggetti perché lì voglio dire dove il conflitto di interesse si crea in maniera più determinante torniamo alle conciliazioni paritetiche sulle conciliazioni paritetiche abbiamo puntato molto nel tempo e credo che la politica del Ministero in questo senso sia stata costante di sostegno anche se con risultati non sempre dello stesso livello il sostegno l'abbiamo sempre fatto diciamo usando due leve io personalmente sono convinto che le norme sono importanti con quello lavoro quotidianamente quindi non potrei non dirlo e non pensarlo però che non sono tutto cioè sono convinto che non bastano i riconoscimenti normativi ma che le norme camminano di pari passo con l'evolversi dei fatti nella società civile e nelle realtà cioè le norme funzionano quando riconoscono realtà che già esistono o quando lanciano segnali di realtà che possono esistere quindi quando non sono scritte sulla carta da questo punto di vista solo sulla carta da questo punto di vista quindi abbiamo lavorato nel sostegno concreto delle conciliazioni paritetiche abbiamo una lunga storia di finanziamento oltre che di sostegno delle attività di formazione per i conciliatori di comunicazione nei limiti del possibile per diffondere la conoscenza di queste attività l'abbiamo fatta a più livelli nel senso che abbiamo finanziato storicamente le conciliazioni soprattutto nel settore telefonico ma non perché ci piaceva di più il settore telefonico perché il settore in cui sono nati le conciliazioni paritetiche partono da accordi negoziali fra le parti quindi quello è l'elemento iniziale da valorizzare e da valorizzare anche noi abbiamo scelto nella fase iniziale di sostegno e continuiamo a pensare che sia una fase che debba ancora durare una sorta di contributo pubblico ovviamente alla parte debole dell'accordo conciliativo alla parte dei consumatori che consenta alle associazioni visto che le conciliazioni paritetiche si presentano come gratuite per il destinatario consenta però alle associazioni di dare il loro contributo senza finire catturate dall'impresa perché altrimenti quello è il rischio voglio dire se l'associazione dei consumatori non trova risorse se non le deve chiedere al consumatore associato salvo che può cogliere l'occasione non imporre cogliere l'occasione per costruire un rapporto associativo o comunque un rapporto col consumatore ma neppure quello deve imporre per mantenere il meccanismo di assenza di costi è chiaro che a questo punto un minimo di sostegno serve lo abbiamo fatto nei confronti diciamo delle telefoniche storicamente lo facciamo su ogni settore che si affaccia e organizza le cose si parlava anche prima voglio dire anche nel settore con l'autorità dell'energia c'è un rapporto consolidato di finanziamento finanziamo entrambi gli strumenti voglio dire negli accordi fra il ministero e l'autorità risorse vanno alla sensibilizzazione su questo tema alla formazione vanno alla parte di procedure conciliative che faticosamente si è cercato di mettere in piedi con risultati non sempre brillantissimi e vanno anche a questa procedura nuova dell'acquirente unico gestita dall'acquirente unico mi limito a dire rispetto a questa parte della promozione che al di là del fatto che probabilmente nelle prossime settimane dovremo rinegoziare con l'autorità dell'energia l'utilizzo delle nuove risorse che sono arrivate quindi vedere come rifinanziare questa serie di attività e come rifinalizzare le risorse sul piano invece del finanziamento delle altre attività quelle delle conciliazioni paritetiche nel settore telefonico ma non solo perché ormai dentro c'è Trenitalia nelle nostre finanziamenti c'è una società dell'acqua ci sono le poste quindi già adesso è andato avanti rispetto al mondo iniziale ci sono un certo numero di aziende abbiamo la gestione di una serie di bandi con Invitalia un primo che è giunto a conclusione che prevedeva solo il finanziamento pubblico e il secondo che sta prendendo adesso l'avvio nel senso che adesso stiamo pagando le prime conciliazioni ma le conciliazioni sono già in corso che ha previsto appunto un coinvolgimento anche delle imprese nel senso che non vi ripeto i dettagli tanto li abbiamo illustrati più volte li trovate comunque sul sito sia di Invitalia che del Ministero oltre che probabilmente quasi tutte le associazioni e tutte le imprese sul loro sito presentano riferimenti a questa cosa ma prevede un meccanismo in cui evitando comunque la cattura dell'associazione da parte dell'impresa perché il rapporto è indiretto ma le imprese tramite questo fondo ministeriale contribuiscono per ogni conciliazione con una loro quota un'altra quota è la quota di contribuzione pubblica la somma delle due quote non rappresenta cifre straordinarie ma è quello che consente diciamo di sostenere e di incentivare questo lavoro delle associazioni tengo a ricordare che anche se questo ha funzionato poco finora forse anche sul piano della comunicazione che questo bando che è stato adottato e che è un bando che scade adesso fra l'altro quindi da questo punto di vista ci dovremo intervenire su a una scadenza in autunno dal punto di vista delle iniziative finanziabili con una convenzione con Invitalia che a sua volta scade alla fine dell'anno e quindi anche qui dovremo lavorare nei prossimi giorni per prorogare l'una e l'altra e al limite utilizzando elementi di correzione del bando ma la cosa importante è da dire che è un bando aperto nel senso che è un bando in cui qualsiasi soggetto faccia protocolli con le associazioni può infilarsi in questo percorso certo deve impegnarsi nell'ambito di questo bando a dare una sua propria contribuzione per le procedure di conciliazione concluse positivamente e il ministero farà altrettanto le risorse col taglio degli importi che abbiamo diciamo deciso nel nuovo bando e con il contributo delle aziende consentono di gestirlo ancora per un certo tempo quindi siamo riusciti a dare a questa iniziativa non il carattere della permanenza perché può essere che un domani troveremo altri meccanismi non ci sarà più da dover incoraggiare questa partita ma sicuramente un carattere di stabilità nel tempo per cui adesso possiamo invece provare a consolidarlo ad estenderlo ad altri settori e forse a vedere se non bisogna aggiustare qualcosa alla luce anche della nuova direttiva provo a dire qualche battuta sperando di aver già preso troppo tempo invece sulla parte normativa è evidente che a fianco a questo meccanismo di sostegno diciamo finanziario la parte normativa è fondamentale il riconoscimento non è tutto ma è importante da questo punto di vista credo che sono state fatte molte cose non le rielenco tutte perché sono state dette però voglio evidenziare come c'è un salto qualitativo che io forse non sono così ottimista come qualcuno ha detto l'Europa ha già riconosciuto le conciliazioni paritetiche le ha riconosciute come best practice nei convegni nelle seri nella direttiva non c'è un riconoscimento formale c'è uno spazio ecco vediamo quali sono gli elementi di novità finora noi siamo riusciti dopo il tentativo storico mai attuato del codice del consumo di dare una legittimazione alle conciliazioni paritetiche in senso pieno che però non ha trovato poi un seguito reale negli anni successivi man mano che emergeva anche nel ministero della giustizia una sensibilità forte sì ma verso le procedure alternative di risoluzione delle controversie in generale non verso le conciliazioni paritetiche io spero che emerga invece quella nei prossimi mesi una comprensione della parte che rappresentano le conciliazioni paritetiche in questo fenomeno l'operazione che si è fatta è quella di garantire uno spazio quindi non di un riconoscimento ma di evitare il superamento cioè il riuscire a inserire nella norma che ha regolato la mediazione civile così poi come nel regolamento attuativo ogni volta una salvaguardia della possibilità di ma non un riconoscimento in quella procedura quindi non sono mediazioni non sono state riconosciute come mediazioni civili quindi quando io parlo di mediazione obbligatoria non diventa obbligatoria per questa tipologia diventa obbligatoria per le mediazioni in senso stretto però gli viene riconosciuta la possibilità di però è un riconoscimento debole perché voglio dire la possibilità per i privati di fare accordi contrattuali e decidere meccanismi è una possibilità che c'è nell'ordinamento il passaggio nuovo che c'è oggi e che c'è nella direttiva comunitaria che dà lo spazio agli stati con espressioni non chiarissime ma dà lo spazio agli stati di considerare in senso pieno come parte di questi obblighi perché la direttiva dà obblighi di mettere in piedi strumenti quindi dice tu stato hai messo in piedi quegli strumenti di apertura di affermazione delle procedure alternative di risoluzione delle controversie in tante maniere fra le opzioni che puoi esercitare c'è anche quella di riconoscere le procedure in cui i conciliatori siano pagati dalla parte interessata e poi dà delle regole dice se le riconosci però devi garantire dei meccanismi lo dico adesso in soldoni è un discorso giuridico da fare anche con alcune delicatezze ma fra i meccanismi cita per esempio proprio il fatto che ci sia un collegio paritetico in cui uno dei due rappresentanti sia un'associazione dei consumatori quindi non legittima da uno spazio la novità forte se riusciamo a portarla a casa si fa riferimento anche nel documento è quello che non è più un emendamento parlamentare è il testo della commissione l'articolo 10 del testo della commissione ma ancora non è legge voglio dire deve andare in aula nel primo ramo ancora abbiamo il bicameralismo non l'abbiamo superato deve andare in aula nel secondo ramo quindi al momento è un'ipotesi che non viene da una fantasia di un singolo deputato voglio dire sapete come funzionano queste cose io non ricordo neppure se è stato presentato come emendamento governativo ma questo è irrilevante vi garantisco che è un emendamento che ha avuto il pieno sostegno del governo nella fase di costruzione iniziale e nella fase di voto e da questo punto di vista non sono emerse neppure opposizioni dalla giustizia non sono emerse non ho certezza che non possano emergere in seguito per cui continuiamo a seguirlo con attenzione bene io credo che quella norma sia un elemento importante perché quella norma che non ne ha pure quella è già il riconoscimento perché stiamo parlando dei criteri di una delega cioè stiamo parlando della legge di delegazione europea per il 2013 secondo semestre che prevede un allegato che bisogna recepire entro il luglio 2015 la direttiva nessuno aveva detto che c'era bisogno di dare criteri di delega per molte direttive ci si limita a metterle in allegato per cui tutte le opzioni previste dalla direttiva sono esercitabili e l'elemento nuovo è che il governo se la delega viene approvata in quei termini è vincolato a esercitare quell'opzione quindi non è che al momento del decreto legislativo dovrà decidere se farlo o no dovrà farlo dovrà esercitare quell'opzione quindi se questa legge passa il lavoro che dovremo fare insieme è decidere come esercitiamo l'opzione perché è un lavoro comunque parimenti complesso voglio dire esercitare l'opzione non significa puramente semplicemente scrivere un ridico le conciliazioni paritetiche sono un sistema riconosciuto di risoluzione delle controverse dovremo vedere le condizioni che la direttiva pone come le decliniamo io su questo dico dovremo ragionare insieme dico anche sì facciamo lo sforzo perché deve funzionare voglio dire stiamo nell'ordinamento interno l'Europa ci riconosce una flessibilità ma poi alla fine non dovremmo essere smentiti dovremmo dire che questa flessibilità che abbiamo esercitato è compatibile quindi dobbiamo stare attenti a mettere i paletti minimi giusti io vorrei evitare però e questo almeno nell'idea mia personale ancora non verificata neanche ai livelli che l'ansia di mettere i paletti giusti ci spinga a snaturare lo strumento cioè se alla fine per mettere i paletti giusti ne facciamo uno strumento che rischia di essere appesantito come una come la mediazione civile non ordinaria forse abbiamo mancato l'obiettivo dobbiamo proprio riuscire a garantire in questo meccanismo che si risponda perché i meccanismi di indipendenza devono esserci ma che le soluzioni individuate per garantire questi aspetti siano soluzioni sostenibili e in questo credo che anche il fatto che abbiamo già tavoli il CNCIU si occuperà di questa questione nella sua riunione del 12 quindi affronterà il tema del recepimento della direttiva e anche il tema del rapporto con il ministero della giustizia quindi sarà un'occasione di parlarne con le associazioni e io credo che anche con il mondo delle imprese intanto con quelle che fanno parte di questa iniziativa ministeriale che hanno già aderito all'iniziativa ministeriale ma secondo me anche con le associazioni di imprese dovremmo parlarne anche grazie grazie mille grazie mille a vecchio io al momento ho iscritto per una breve domanda o intervento Mario Finzi di Assolutenti non so se ci sono altre domande mi fate sapere e poi vediamo se sono compatibili con il tempo grazie io parto anche proprio dalle riflessioni che ha fatto Gianfranco vecchio perché la storia diciamo della normazione della paritetica è una storia accidentata direi più triste che felice direi che la massima delusione nel corso di questa storia ci è venuta proprio dell'Unione Europea quando ha diciamo riconosciuto la best practice dato rilievo alla nostra iniziativa di successo un successo che dura vent'anni e poi se ne è dimenticata e ha lasciato tutto al più degli spazi residuali nel dire se poi vi viene in mente qualche altra cosa gli stati membri se ne potranno occupare quindi non so se devo pensare che forse sul lato consumatori dove l'Europa ha trainato sicuramente tutta la legislazione nazionale adesso traina meno cioè penso anche e mi chiedo che fine ha fatto la collective predress che era un'altra cosa che le associazioni dei consumatori si aspettavano dall'Europa e di cui ci ha parlato più di una volta anzi è venuto anche in Italia a parlarcene qualche commissario europeo insomma non ne abbiamo più nessuna notizia in sostanza penso seguendo anche quello che diceva Gianfrancesco che dobbiamo continuare a fare lobby in questo settore anche questo emendamento che chiaramente è un emendamento che viene da casa nostra perché è stato scritto esattamente come lo volevamo forse ne volevamo anche qualcosa di più ma insomma diciamo che sicuramente è ispirato dall'ambiente consumatori è giustamente soltanto un articolo di un testo della commissione che deve ancora fare il giro in aula e poi all'altro lato nel Parlamento eccetera eccetera e quindi ecco su una serie di riflessioni che dobbiamo fare tra noi stessi cioè se oggi adesso Giordano si domandava quale spazio rimane per la paridericità con note piuttosto tristi direi che dipende soltanto da noi che spazio rimane per la paridericità perché non ci dimentichiamo che la parideria è il frutto di accordi che noi promuoviamo con le imprese perché altrimenti non ci sarebbe niente del genere quindi dobbiamo insistere con le imprese per migliorare i protocolli dobbiamo insistere con le imprese che ancora non la fanno a farla dobbiamo insistere con le istituzioni perché questo procedimento normativo vada in porto felicemente e dobbiamo quindi lavorare noi ecco probabilmente una forse anche un'occasione ci potrebbe essere nel semestre a guida italiana dell'Unione Europea per rifare la voce grossa su questa cosa avremo anche in Liguria a ottobre probabilmente un convegno patrocinato dal CNCU in cui parleremo ancora di conciliazione di quello che bisogna fare per per farla funzionare resta un fatto comunque secondo me che e in questo anche dobbiamo lavorare noi e in particolare forse Consumers Forum che anche con l'approvazione del del testo della della commissione si parla sempre di un organismo anche quando si parla di un collegio no che sia composto da da un rappresentante dei consumatori un rappresentante del del professionista ma comunque si parla di un organismo collegiale e noi fino adesso questi organismi ne abbiamo sempre tanto parlato non li abbiamo mai fatti non li abbiamo mai voluti diciamo costituire in modo limpido e in modo io vedo delle smorfie di diciamo di scetticismo del nostro presidente però insomma io invece questa cosa la sento e cioè perché credo che se noi non diamo concretezza e non diamo struttura è difficile che qualcuno riconosca un'autorevolezza una legittimità a qualcosa che non ha struttura e che non ha che non ha quindi una concretezza quindi il lavoro da fare è ancora tutto nostro è ancora tanto abbiamo delle sedi nelle quali ci dobbiamo far sentire presso la politica presso le istituzioni e dobbiamo lavorare sicuramente molto anche qui ha ragione Gianfrancesco su quello che saranno le norme di attuazione e lì ecco i valetti bisogna che non è che ci possiamo scegliere come sempre da soli perché se ce li vogliamo scegliere come sempre da soli restiamo in quell'area contrattuale tra associazioni consumatori e imprese che si scelgono il loro modo di risolvere i problemi ma questa è una cosa che sta fuori dall'ordinamento anzi è una cosa che l'ordinamento non può negare a dei sostanzialmente a dei privati di trovare un modo di mettersi d'accordo se vogliamo invece che sia nell'ordinamento la diciamo il riconoscimento della paritetica bisogna che all'ordinamento gli diamo dei connotati più precisi di questa di questa paritetica anche perché la paritetica c'ha tante facce con ogni impresa nel corso della nostra storia l'abbiamo regolata in modo leggermente diverso e quindi questo è quello che che mi sento di dire insomma ecco c'è da lavorare ancora tanto ma c'è anche da strutturarci noi e da scegliere una buona volta per tutte di appunto di darci regole a nostra volta fisse grazie grazie è possibile è possibile un minuto l'intervento di Mario che condivido al 99% presenta una imprecisione che è molto importante la conciliazione paritetica è partita come riconoscimento di un organismo nei progetti pilota si chiamava ICO e a mio giudizio visto che sono presidente di un organismo estra giudiziale su base associativa il comitato paritetico della conferenza dell'accordo CNCU ANCI regioni e così via può tranquillamente configurarsi magari con delle integrazioni come organismo estra giudiziale ed essere riconosciuto a quel titolo sì le conclusioni saranno rapidissime però permettetemi di dire ah c'era Sodano però scusa un rapido no ma ti pare chiedo scusa solo un minuto per dare una risposta solo per far chiarezza sull'intervento di Sergio è stata istituita l'autorità di regolazione dei trasporti con delle competenze di controllo sull'applicazione del regolamento europeo non è una novità nel sistema nel senso che prima c'erano altre autorità che facevano più o meno le stesse cose e alle quali noi abbiamo sempre risposto per cui oggi sono state accorpate che poi lo Stato abbia ricevuto la sanzione per tardività questo è un problema che non riguarda l'impresa ferroviaria e il sistema ferroviario volevo però tranquillizzare un po' Sergio e un po' tutti sul fatto dell'applicazione del regolamento europeo il fatto che ci sia un'autorità che ci aiuterà a migliorare a controllare quello che facciamo non è che ci preoccupa perché noi il regolamento lo applichiamo da quando è entrato in vigore da 13 dicembre 2009 anzi ci sono norme ci sono norme in quel regolamento che forse sono state copiate dal nostro sistema ferroviario e da quello delle maggiori reti come la Germania la Francia eccetera faccio un esempio banalissimo vado a mente non ce l'ho sottomano il regolamento obbliga all'assicurazione per sinistro ferroviario obbliga che le imprese ferroviarie abbiano un'assicurazione in caso di sinistro ferroviario noi questa ce l'abbiamo da 1986 obbliga ad anticipare una somma alle vittime in caso di sinistro grave noi questo l'abbiamo sempre fatto dal 1986 quindi voglio dire questo regolamento ci dice che siamo tutto sommato al passo a quei tempi il tema sul quale la comunità europea pone molta attenzione due temi trasporto delle biciclette e forse ancora più importante la libertà di mobilità per le persone con disabilità e i portatori e le persone a mobilità ridotte ecco allora sulle biciclette penso che possiamo andare oltre perché c'è tutti lo sappiamo che possiamo trasportare biciclette in treno sulle persone a mobilità ridotta noi abbiamo un sistema di assistenza dal 1980 di cui parla oggi il regolamento europeo quindi voglio dire si può sempre migliorare l'impegno di Trenitalia sicuramente di migliorare però stiamo parlando di cose rispetto alle quali noi siamo stati all'avanguardia grazie partiamo dalla fine io Mario io non mi impicco sulle parole Mario io sulle parole non mi impicco perché ci siamo tutti quanti impiccando su un termine comitato di pariticità ma io vedo che ogni associazione di consumatori abbia fatto i suoi accordi di conciliazione l'ha fatto questo comitato esiste lo chiamiamo cabina di regia lo chiamiamo comitato paritetico ma moltissime non tutte per carità ma moltissime strutture di conciliazione hanno comunque un albio che già è all'interno di poi non è proprio preciso va migliorato lo faremo con l'emendamento lo faremo in un'altra maniera lo faremo nella nella pratica però scusa scusa se mi dici la sede non facciamo dialogo e la partita IVA di questo comitato io sono d'accordo con te se no stai parlando di una cosa per come ho letto per come abbiamo letto questa cosa non è come dice ma non è un problema ma detto questo la seconda la seconda cosa vorrei veramente fare solamente i ringraziamenti quindi per la seconda cosa che diceva adesso Ferrari ma io se non sbaglio su queste cose qui lo so che esistono ma è stata creata una nuova autorità se non sbaglio il 26 c'è un'audizione di questa autorità delle associazioni o comunque prossima delle associazioni di consumatori è sicuramente il problema della conciliazione in tutti i settori partendo dal regolamento europeo perché lì c'è il passaggio in più del pendolarismo per esempio diceva stamattina Antonietta che grazie al cielo è stato fatto un accordo con Trenord ma è stata l'unica è l'unico e quindi sicuramente dovremo lavorare anche anche su questo ultima cosa concreta ricordiamoci sempre che la conciliazione paritetica è un accordo tra le parti non c'è nessun articolo del coce civile che ti dice che ti parla di conciliazione paritetica io credo che questo vada sempre a mio avviso ricordato detto questo avremo occasione il prossimo anno ma io penso prima spero prima perché avremo la riunione con le autorità nazionali a novembre peraltro ve lo preannuncio il 13 novembre come consumer forum 13 novembre 13 oggi mi correggono tutti e quindi i ringraziamenti ma io credo che essere alle 2 meno 10 essere ancora con la sala piena e piena anche di là non può che essere un motivo di orgoglio per consumer forum avere avuto i relatori che abbiamo avuto oggi da ultimo cito lui ma cito tutti il dottor vecchio credo che sia importante aver fatto parlare un'associazione di consumatori peraltro la mia come programmata e altre non programmate credo che sia una cosa importante credo una cosa però infine e chiudo veramente chiudo come ho iniziato queste conclusioni non non fissiamoci su non fissiamoci sulle parole io questa mattina sono entrato anzi voglio essere ancora più preciso quando abbiamo iniziato il gruppo di lavoro sulla conciliazione c'erano posizioni totalmente divaricate all'interno del gruppo di lavoro sì no forse esiste non esiste oggi non ho sentito posizioni così distante da tutti quelli che hanno che hanno parlato e spero di essere confortati in questa mia interpretazione quindi io credo che si tratta solamente in questo concorso solamente di lavorare lavorare insieme costruire ho detto stamattina e lo ripeto e chiudo veramente consumer forum è un punto d'incontro se associazioni e imprese come si sta dimostrando perché i numeri sono importanti ma sono ancora di più i soggetti che hanno nel 2013 e anche nel 2014 avviato nuove procedure di conciliazione io credo che come punto d'incontro di associazioni consumatori imprese con il contributo fondamentale degli atenei quindi degli accademici consumer forum è qui questa dirigenza è qui e spero appunto di poterne parlare non fra un anno ma anche prima vi ringrazio grazie 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 a tutti